ciao raga ho parlato mi sa da solo che fei il niente non c'è raga ci siamo ciao raga ho parlato da solo ho parlato da solo per 5 minuti ero convinto fosse iniziata la live non avevo schiacciato inizio streaming ma io ho dei problemi raga ho dei problemi ciao raga vabbè non vi siete persi nulla ho detto giusto due cagate come il mio solito in realtà la live era iniziata in orario ciao raga come va come state tutto bene scusate raga ho dei problemi ho proprio dei problemi mostruosi non ce la faccio ho parlato da solo come un idiota un idiota vabbè il bello delle live ragazzi è meraviglioso allora ragazzi mi mancava mi mancava tornare in live che cos'è che è successo mi hanno dato un secondo strike al canale 5 giorni fa non vi posso neanche dire l'ansia non potete capire per un video sulla coca cola cosa quando me l'hanno detto ho detto cosa io ho mandato un messaggio cosa e loro mi hanno detto eh hai violato i nostri termini quindi adesso se avete capito me l'hanno messa in quel posto per fortuna hanno capito che forse non era proprio da strike e quindi hanno detto vabbè dai facciamo finta di nulla e me l'hanno tolto e quindi eccoci qua ragazzi finalmente in live non vedevo l'ora 9000 spettatori ma ragazzi abbiamo appena iniziato cioè io in realtà ho iniziato da 5 minuti però abbiamo appena iniziato cosa vabbè ragazzi siete fantastici un bacio a tutti mi siete mancati di brutto ve lo giuro raga mi siete mancati tantissimo vedevo che c'era scritto inizia streaming però mi vedevo anche parlare lì ho detto vabbè starà andando beh devo aver venduto il cervello al mercato nero per 4 euro e 50 e l'ho dato anche per tanto oh dio santissimo ragazzi dio santissimo che bello tornare è meraviglioso essere tornato qua con voi mi mancavate tantissimo allora ragazzi non perdiamoci in chiacchiere perché cos'è che andremo a fare oggi among us me lo state chiedendo da non lo so neanche quanto quindi oggi ho deciso di portare among us per l'appunto ma giocare insieme a voi se tutto va bene perché se la live è iniziata così prevedo il disastro ma lo sapete meglio di me in teoria dovremmo giocare insieme quindi vi faccio un attimo vedere il codice da inserire lo inserite tipo io poi parto vediamo cosa succede non lo so se funzionerà nel caso perdonatemi sapete che ho venduto il cervello a 4 euro e 50 non si può pretendere troppo ecco allora ragazzi essendo che siamo già quasi 10.000 spettatori direi che non ha senso neanche aspettare altre persone per cui cuffie alla mano anzi alle orecchie vabbè diciamo che probabilmente lo strike tornerà perché ho dei problemi allora ragazzi dai avete among us vero vi siete preparati psicologicamente al fatto che io non so giocare ve lo dico non so giocare non l'ho mai aperto probabilmente nel gioco io starò fermo a fissare il muro così dovete insegnarmi cosa si fa come non si fa allora ragazzi intanto mi raccomando di lasciare subito un bellissimo like alla live se non l'avete ancora fatto e non vi ho detto una cosa che ho detto prima vedete quel contatore di iscritti quello è il contatore di iscritti del secondo canale per cui mi raccomando ragazzi andatevi a iscrivere tipo in questo momento vediamo se riusciamo a fare tipo un record della vita che esplode tutto è un contatore di iscritti in tempo reale no trovate il canale direttamente in descrizione o sul primo canale nei canali in primo piano comunque lo trovate dappertutto andatevi a iscrivere in questo momento vediamo cosa succede ragazzi voglio vedere il contatore che fa così no daje raga daje 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 forza così ragazzi andatevi a iscrivere dai vediamo cosa succede al contatore penso che esploderà perché vi voglio bene e voi siete incredibili allora vediamo al contatore cosa può succedere se non sbaglio si aggiorna ogni 10 iscritti per cui daje con le iscrizioni raga condividete con tutti il canale dite andate a iscrivervi anche perché usciranno video anche sul secondo canale soprattutto sul primo perché adesso si è sbloccato tutto ma anche sul secondo daje ragazzi con le iscrizioni abbiamo tra l'altro le prime donazioni vediamo allora ecco cosa abbiamo 10 euro da nick radogna quello vero ciao nick bentornato grazie mille caro tra l'altro stiamo parlando è gentilissimo mi è stato vicino in questi giorni in cui ho fatto veramente un disastro con youtube 7 strike un casino e lui ce sta grazie mille nick e soprattutto grazie per la tua donazione che non è necessaria ma lo apprezzo tanto grazie di cuore nick poi abbiamo leux tm un euro anche a te grazie di cuore carissimo abbiamo red hot due euro sei grande thanks ti stimo un botto grazie veramente di cuore ragazzi poi abbiamo ne leggo anche altre due poi ok ne sono arrivate in realtà un botto non l'avevo aggiornato la pagina allora ragazzi ne leggo ancora una poi iniziamo a giocare poi ne leggo altre dopo perché qua se no oggi abbiamo the best tiger che dona 5 euro grazie the best tiger gentilissimo veramente grazie di cuore ti prego mi saluti ti stimo ti meriti le più iscritti di più di più di pie e vabbè ti voglio benissimo grazie the best tiger ti mando un grosso bacio va bene ragazzi dai allora intanto mi aggiusto i capelli che sembra un piccione e direi che possiamo iniziare 10700 che cosa 10700 spettatori Gesù il Gesù il Gesù mi sono girato un secondo siamo a 6250 iscritti ero a 4800 ragazzi dai ecco le iscrizioni facciamo i record raga facciamo i record è gratis iscriversi raga oggi esplode tutto oggi esplode tutto mi gira la testa allora intanto vediamo di avviare among us che ancora non starete vedendo non so parlare non vi preoccupate perché tra poco lo vedrete c'è l'audio a un milione ok ho abbassato la musica perché era leggermente alta anche se voi ancora non lo sapete allora vediamo un attimo eh raga ok abbiamo among us qua davanti anche se voi non lo vedete facciamo una roba figa ok qua è già partito questa volta non abbiamo problemi in teoria ok mi rimpicciolisco così ma che bello among us signori eccoci qua e tra l'altro il contatore di iscritti rimarrà per tutto il tempo quindi potrete vedere le iscrizioni che aumentano mi raccomando raga iscrivetevi io ora non lo vedrò più ogni tanto andrò a guardare stupitemi voglio vedere che all'improvviso succedono cose 11.800 spettacoli ragazzi la vita la vita che cosa che cosa sta succedendo in questo preciso istante su youtube cosa che cosa vabbè ragazzi siete fantasmi e pensare che ho iniziato la live pure a caso dopo non era partita allora in teoria voi dovreste poter vedere tutto quanto carino abbiamo online ok enter code ragazzi in teoria su private devo andare giusto qua avevo provato prima a scrivere è uscito fengsignan volevo vedere se potevo magari darvi qualche codice qualcosa di fengsignan non serve a niente vabbè allora private il codice sarà fengsignan se scrivete questo e avviate in teoria tutti coloro che lo faranno nel momento in cui lo farò io dovrebbero trovarmi in partita forse forse non lo so eh ragazzi allora ok mamma mia ragazzi siete fantastici che ritorno incredibile proviamo vediamo se è tutto a posto no deve andare su host ah vado su host ok ok ragazzi non è successo nulla ok non ho avviato ancora nulla facciamo host e ve l'ho detto che è la prima volta non so niente nella mia esistenza impostore uno due ok facciamo quanti impostori raga uno due tre quanti devono essercene perché io non ne ho idea uno basta raga ho fatto host tranquilli non è successo nulla è tutto a posto due 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 tre da quel che cap due ne volete due tre due facciamo due dai raga anche perché io non ho idea di che cosa sia l'impostore quindi ne metto due nel dubbio poi chat ok va bene max ok mettiamo dieci giocatori un botto conferma ok ok quindi dio santissimo perché ci sono solo problemi nella mia esistenza riproviamo create game max play ma devo fare una cosa qua no quella è la mappa non c'entra niente io confermo allora dai ce la facciamo ragazzi non vi preoccupate in qualche modo ce la si fa non ce la si fa quanto pa dio santo ma se metto privato eh ah eh ma perché ci sono solo problemi nella mia vita perché non è che no eh rifacciamo io vado avanti vediamo cosa mi dite in chat eh no si è bugato eh ovviamente ovviamente allora mettiamo ok Europa Asia anche no devi mettere Asia Nord America e fai la mappa eh intanto qua cancelliamolo magari da fastidio al gioco che ne sapete e non da ah ma devo fare veramente così allora fengsignan raga fengsignan dovete scrivere fengsignan ma che cavolo ma cosa sta succedendo dai per una volta ma che cavolo è successo raga è andato raga è andato c'è la stanza aperta porca vacca raga entrate vediamo se ce la facciamo per una volta mi dovete insegnare eh eh cosa raga fermi che cosa sta succedendo nella mia vita raga non riesco a parlare con voi è normale c'è un tasto da schiacciare devo schiacciare qualcosa per poter parlare con voi ma tra l'altro ho visto bene o c'è il masseo non è il vero non è vero mai nella vita sarà ma non sarà grosso così proprio raga cosa find ah io faccio start starting ok ci sono messaggi shh non si può parlare va bene ok quindi nella mia esistenza io cos'è che dovrò fare ok io sto camminando in maniera molto fiera no ragazzi me lo dico non non so vabbè io vado in giro allora prendiamola come partita di prova eh raga perché non ho veramente idea di che cosa io debba fare vera volpe cosa c'è vera volpe vabbè vabbè devo cliccare ciao ciao ragazzi ma io mi chiamo fengsignanne ma no ma io ma come fengsignanne ma chi è fengsignanne pensavo fosse il massimo è fermo non so cosa sta succedendo non credo sia comunque il vero però nel dubbio madonna mi sto che cosa è successo allora però se mi trovo all'improvviso è morto discussione di che cosa ossigeno mi saluti ma ok non sono il massimo vero infatti mi sembrava strano allora ragazzi mi buttate in un gioco non so dove mi trovo non so il mio nome ma io volevo parlare con voi non si può allora io dico ma perché c'è un look and fake ma cosa ma mi hai rubato il nome ma va bene va bene dai faccio io dico Mattia a caso ho detto un nome Mattia mi dispiace perdonami mi sei capitato tu vabbè allora raga allora raga ho bisogno di discutere in chat il problema è che non mi fa discutere io non riesco ad avere un mio dialogo va bene ci ho azzeccato ma io non ho parole ho azzeccato l'impostore a caso e immagino che l'impostore sia il cattivo no non ho parole ragazzi è qualcosa di meraviglioso è così che si vince i giochi oh io faccio cose senza neanche cosa cosa ah ok mi sono bloccato non sapevo cosa stessi facendo faccio cose raga ok almeno qualcosa la sto facendo c'è una c'è la tannica di benzina cosa va bene ho ricaricato anche la benzina ci servirà probabilmente per scappare non lo so vabbè ogni tanto fallare fa cose ma io quindi devo soltanto sopravvivere e fare le quest giusto non devo morire allora facciamo questa partita e poi mi spiegate bene se ho azzeccato se sto facendo giusto max gamer mi segue ok va bene vera volpe tu non me la conti giusta eh ti tengo d'occhio è vera volpe vediamo qua devo fare qualcosa no qua forse si qua devo fare qualcosa non devo fare niente forse si ok che cos'è ragazzi sto facendo cose incredibili ma che cosa sta succedendo nella mia vita ma sono bravo io o in realtà salve d'accordo allora se vado qua che cosa succede niente non posso qua c'è una quest va bene che devo fare qua ah vabbè ma sono abbastanza semplici per fortuna essendo che ho venduto il cervello pensavo di non farcela però è tutto a posto oh la benzina ce l'ho io eh la benzina ce l'ho eh ok possiamo partire che devo fare vabbè io sto facendo cose eh si va bene mi reputo abbastanza come dire soddisfatto dalla mia partita dalla mia performance allora ragazzi vi state iscrivendo nel frattempo al secondo canale mi raccomando io non so a quanti iscritti siamo arrivati eh sium e cri gesù cosa emergenza no non schiaccio emergenza siamo nella caffetteria mi raccomando raga iscrivetevi al secondo canale lo trovate in descrizione da tutte le parti comunque allora vediamo io continuo a girovagare però prima è successo tipo qualcosa perché siamo tutti fermi non so è tutto a posto tra l'altro raga siamo 15.800 spettatori non è mai successo che cosa io continuo a fare tutte quante le missioni però non vedo più nessuno ma è normale sto sbagliando vai sulla mappa dov'è la mappa ok la mappa ok manca la caffetteria e lo storage andiamo nella caffetteria forse qua c'è qualcosa da dover fare vediamo un po' raga perdonatemi ma sono appunto agli inizi ok cosa ho fatto oh le ho fatto l'emergenza ho fatto l'emergenza perché non vi sento il masseo il masseo raga non so cosa sta succedendo sto facendo cose senza senso senza senso io ho premuto no il masseo ma ragazzi ma voi mi date anche i suggerimenti mi dite chi è l'impostore ma cosa e io tra l'altro l'ho detto a caso e quindi per la seconda volta ho zecato senza un apparente motivo è una cosa che mi piace molto devo essere sincero allora vediamo un po' non si può parlare ah ecco perché ecco perché io pensavo di poter dialogare con voi vabbè si è buggato il se si è buggato il server allora li proviamo questa volta metto fengsy create game proviamo di nuovo ragazzi ok siamo tornati allora prima penso di aver azzeccato più o meno il meccanismo di questo gioco eh credo vediamo un po' chi entrerà questa volta devo discutere in chat va bene va bene dai piano piano imparo raga madonna istantaneo entrano le persone ciao ragazzi ciao ragazzi ok in chat allora ve lo scrivo in chat ciao raga thanks oh stavolta ho il nome giusto ciao raga ok ragazzi ho capito come parlare con voi devo scrivere ci ho messo sette ore ma l'ho capito allora posso startare la partita siamo subito 10 proprio istantaneo ci sta mi raccomando raga iscrivetevi al secondo canale lo trovate in descrizione stai calmo in descrizione direttamente sul primo canale andando sui canali mi raccomando raga andate a iscrivervi perché c'è il contatore di iscritti in temporale lo potete vedere io ancora non so a quanti iscritti siamo non ne ho idea per cui sorprendetemi quando andrò a guardare il contatore di iscritti voglio vedere un numero che non ha senso proprio dove siamo noi allora devo andare a al reattore no è uscito dal gioco uno vabbè poi magari ritorna dopo se vi dicessi che ci sono rimasto molto male voi mi credete che cosa è successo allora intanto sono un fantasma poi uno mi ha proprio eh 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 io non posso però comunicare non posso dire mamma sono su youtube ma cosa dove allora ragazzi in storage ok chi sarà mai stato sono morto sono esploso quindi uno tra di voi mi ha fatto del male fisico mi ha punzecchiato la testa buono a sapersi io quindi non posso dire però perché altrimenti non avrebbe ho finito basta ti hanno ucciso ho notato ragazzi sono esploso e vabbè va bene ragazzi ci sta ok ah ma devo non devo votare io non posso votare ovviamente che voto ma l'ha ammazzato io sto in silenzio eh raga iscriviti al secondo canale e lasciate like alla live se non l'avete ancora fatto dai che oggi ci divertiamo tra l'altro non so se ve l'ho detto ma stiamo insieme in live fino alle 21 e 30 che è uscito ma 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 non hanno beccato l'imposto ah ma io rimango fantasma vado in giro ah vabbè io seguo le persone posso passare che figata ma posso fare ma che figo posso vedere le cose che meraviglia vabbè ragazzi dai non importa sono esploso comunque vi dicevo rimanremo in live fino alle 21 e 30 per cui mi raccomando raga rimanete perché ci divertiamo un botto oggi questa è la mia quest ma non la posso fare sono morto sono esploso ehi 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 ho visto l'esplosione e probabilmente questa volta verrà puzzato verrà beccatissimo e fatto proprio esploso fuori dalla navicella ve lo dico io ve lo dico io raga allora adesso leggo anche poi la chat visto che oggi posso farlo oggi posso lasciare il gioco che va avanti e leggere la chat leggere le donazioni leggere tutto quindi io sono morto schiele è morto toni f grande toni f è morto anche lui esploso toni f va bene rimane potterhead si um per tuffande mister wolf pazzozo e vic va bene va bene ok non so cosa state dicendo ragazzi ha fatto una fake ah ok va bene vediamo un po' se viene beccato questa volta l'impostore viene cacciato siamo 14500 spettatori raga è un botto siete fantastici grazie per questo supporto incredibile dopo lo strike veramente un bacio gigante raga di voi un bel incredibile allora nel frattempo che loro decidono chi far morire chi buttare fuori fuori tra l'altro saluto magari è stato buttato fuori potterhead si e lui è stato ad ammazzarmi potterhead però non l'ho detto sono stato bravo non l'ho detto allora allora raga va bene allora leggiamo ancora qualche donazione che è arrivata nel frattempo mi raccomando di iscrivervi al secondo canale se non l'avete ancora fatto raga voglio vedere le iscrizioni proprio che aumentano a dismisura in descrizione trovate il secondo canale ci cliccate e vi iscrivete raga mi raccomando facciamo un record dai facciamo un record italiano che non è possibile perché tipo 180.000 iscritti in due ore però dai facciamo vedere che anche noi siamo forti raga andatevi a iscrivere che comunque usciranno video anche la andatevi a iscrivere raga poi toglierò il video che ho caricato dove vi spiego cosa è successo perché l'ho fatto principalmente perché non avevo altri metodi per farvi sapere che ho ricevuto una strike però verrà eliminato quel video e rimarranno solo i nuovi però andatevi a iscrivere raga mi raccomando voglio vedere il contatore io ancora non so a quanto siamo voglio che quando andiamo a vederlo sia tipo a 10.000 iscritti una cosa ce la facciamo raga dai che ce la facciamo io credo in voi il canale lo trovate nel primo tra i canali easy proprio iscrivetevi raga è gratis allora abbiamo alex samat che dona 2 euro grazie alex tu ci sei sempre evviva il re indiscusso è tornato grazie mille ma grazie a te alex ma come re un bacio alex gentilissimo mettiamo la chat così voi intanto leggete che cosa succede abbiamo debora dolce che dona 5 euro debora gentilissima sono troppi grazie di cuore debora un bacio gentilissima anche te poi abbiamo alex il creatore di mondi che dona 1 euro grazie mille alex che crea i mondi poi abbiamo marika esposito che dona 5 euro grazie marika veramente grazie di cuore ti adoro sei sempre te stesso e saluti mi ti prego ciao marika un bacio rimarrò a me stesso non vi preoccupate non c'è pericolo poi abbiamo cristian palmieri che dona ben 5 oggi raga proprio robe incredibili vi dico sempre che non è necessario ma lo fate lo stesso grazie di cuore raga veramente grazie di cuore gentilissimi ti vogliamo bene non c'è serata in cui non ci fai compagnia un grande abbraccio da mariana e papà grazie di cuore veramente anche al papà grazie ok ancora non è stato cacciato l'ultimo impostore attenzione attenzione rimangono un po' di persone voglio dire anche toni f è morto è morto toni f è morto va bene comunque grazie mille poi abbiamo lorenzo bruzzone che dona 1 euro grazie mille lorenzo gentilissimo abbiamo tiger tiger non so parlare che dona 2 euro grazie mille tiger anche te gentilissimo poi abbiamo marco lanza che dona ben 2 euro grazie mille marco calmo cos'è sti suoni nelle orecchie poi abbiamo altri 2 euro da lorenzo bruzzone ciao posso giocare con voi lorenzo sei il benvenuto se riesci a entrare perché come puoi vedere siamo un pochino 14.000 persone un botto però volentieri comunque grazie mille poi 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 abbiamo luna fnaf 1987 un altro esploso che dona 2 euro grazie di cuore luna porterei mai fnaf ti voglio bene grazie di cuore luna non lo so sinceramente non lo so non lo so non ne ho idea però è possibile raga non vi preoccupate vi metto la chat perché così vi tengo è il marrone si è lui il marrone fuori simonello che dai ammazzi la gente allora un altro euro da marco lanza grazie mille marco gentilissimo neon glitch ita 34 che dona 2 euro grazie mille grazie mille grazie mille neon glitch ita poi abbiamo i against tube che dona 2 euro grazie mille against tube salve amico amico mio grazie un bacio boh esploso anche l'altro madonna ancora non è stato beccato quest'uomo è fortissimo va bene secondo me è vic nel dubbio sapete che non ci azzecco ehi che la mappa tutto a posto io non le posso fare le missioni sono esplose poi abbiamo giulia t89 2 euro grazie mille giulia ciao carissimo buona serata come va grazie di cuore buona serata anche a te giulia va benissimo soprattutto dopo che mi hanno detto che lo strike è stato tolto va benissimo grazie di cuore ah tra l'altro raga ma avete visto la maglia la figata di questa maglia eh e non solo la tazza con il mio logo aspetta un attimo emergenza va che figo va che figo allora logo maglia con la dappertutto raga tutto brandizzato fancy tutto logo fancy allora ve lo dico il logo vabbè l'ho fatto per conto mio non c'entra niente ma queste due cose me le ha fatte la mia ragazza sì sono fidanzato adesso ci sono persone ma cosa ve la farò conoscere non vi preoccupate tempo al tempo mi esplosa la voce tra l'altro mentre ho detto questa cosa vi piace però eh allora ragazzi ciao Tony F allora è meraviglioso raga è meraviglioso poi vi volevo chiedere una cosa eh ah posso ancora fare le missioni mi dite ah le posso fare ah ok allora dopo se dovesse esplodere le proverò a fare allora dopo faccio le missioni raga perdonatemi non lo sapevo giuro non lo sapevo dopo le faccio lo inizio a fare adesso riusciamo a buttarlo fuori l'imposto niente è fortissimo allora ragazzi non vi preoccupate che poi ve la faccio conoscere no allora ragazzi ok facciamo le missioni allora poi continuo a leggere le donazioni la chat non vi preoccupate non lo sapevo ero convinto che non le potessi più fare eh invece a quanto pare sono ancora possibili le missioni buono a sapersi cosa vuoi cosa sta succedendo ma ah ok c'è già un altro che lo stava facendo non so cosa sta succedendo cosa devo ecco già qua è un livello un po' superiore vedete mi sono già perso vabbè niente non lo so fare sono scemo allora vediamo da un'altra parte cos'è questo lo posso fare no apriamo la mappa allora devo andare qua ok ah posso anche vedere eh vabbè ma che figo electrical electrical ma porca ok ma basta ma che che mi turba nell'anima allora qualcosa mi dice che qualcuno mi sta disturbando e non mi fa fare le quest tipo no per tu fande perché mi segue quando c'è lui non posso più fare niente raga ma è normale vabbè emergenza emergenza ah vabbè va bene ragazzi dai è la prima volta che gioco ragazzi per cui datemi il tempo solo per prendere prendere il giro e poi si giocherà anche meglio non vi preoccupate ne faremo anche molte altre di live in questo se vi piacciono e soprattutto ce la stiamo facendo oh eh madonna un'arena alla fine era l'impostore era un'arena c'è ancora un'impostore ma sto avendo delle difficoltà c'è un cane ma cos' perché 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 ma soprattutto perché mi per tu fande mi segui non lo so raga io non so che sto facendo ehm si va bene ragazzi ricreiamo un altro game ok siamo partiti di nuovo va bene ragazzi non ho messo nord america ho messo europe europe come parlo europe raga mi raccomando vi state iscrivendo al secondo canale per chi si fosse sintonizzato in questo momento c'è il secondo canale in descrizione fengsi 2 c'è scritto che poi dovrò migliorare la grafica il nome sistemare un po' tutto non vi preoccupate però andatevi a iscrivere trovate sotto il contatore di iscritti in tempo reale guardatelo aumentare che fighissimo facciamo un record dai raga andatevi a iscrivere ciao raga ciao fengsi fan voi kebab si assolutamente grazie mille senza cipolla per favore allora raga come potete vedere io faccio partire la partita e poi è casuale chi entra non posso sceglierla io questa cosa quindi intanto sono il crewmate chi è il crewmate ehi ehi c'è un coltello in testa non so se c'entra qualcosa con l'impostore vabbè facciamo le nostre quest vediamo un po' allora vediamo un attimo eh tutti qua con con vabbè qualcuno penso l'abbia fatto al posto mio mi fate fare qualcosa per favore l'ho fatto forse forse lo fa non lo so ragazzi facciamo attenzione perché qua da qualche parte c'è l'impostore che ci potrebbe squartare ma perché mi seguono tu raga mi sa che non si gioca così eh non dovreste seguirmi ecco è morto uno aia discussione ragazzi discussione vediamo un po' vediamo la chat dove in security in security è morto qualcuno chi sarà mai stato secondo me che babbaro perché subito ha scritto dove poi dice mi saluti non è il momento ragazzi comunque ciao a tutti ragazzi per chi si fosse sintonizzato in questo momento per chi fosse entrato in partita ciao a tutti grazie mille che babbaro ma io penso che sia stato tu grazie ragazzi se mi state seguendo in live grazie di cuore allora proviamo no Fancy Fun potrebbe essere che babbaro dai io ho votato che babbaro perché mi ha chiesto se volevo il kebab e secondo me c'è qualcosa sotto tu me la conti giusta raga iscrivetevi al secondo canale lo so che vi sto dando del fastidio tantissimo però facciamo un record incredibile facciamo vedere che siamo fortissimi trovate il secondo canale sia sul primo canale sia in descrizione a questa live dai facciamo il record raga mi raccomando eh allora continuiamo a leggere anche le donazioni abbiamo Virginia di Sarra che dona un euro grazie mille Virginia poi abbiamo Super Samuel the Gamer uno è stato ma ragazzi io sono fortissimo e lo sapevo perché mi ha chiesto se volessi il kebab io lo sapevo dicevo Super Samuel the Gamer che dona due euro ti voglio bene grazie mille Super Samuel the Gamer un bacio gentilissimo allora ho azzeccato ragazzi era kebabaro io lo sapevo mi ha chiesto del kebab e qualcosa era nascosto in questa sua richiesta ragazzi perché mi seguite vabbè però forse giustamente perché devono fare le quest ma basta ma basta ma basta ammazzarmi allora sono morto sono esploso mi ha girato il cranio ho sofferto dentro va bene io non posso però dire chi è stato mi ha ucciso mi ha ucciso volevo proteggerti ah perché puoi proteggermi che va è il celeste attenzione celeste dov'è il celeste ah Aldo Baio è stato Aldo Baio ecco chi è stato Aldo Giovanni e Giacomo allora poi abbiamo due euro da è un nome in giapponese non riuscirò mai a pronunciarlo perdonami eh Schitti e Ico l'avrò letto malissimo comunque grazie di cuore un bacio poi abbiamo Gioco no Giacomo Bubba Giacomo Bubba che dona due euro grazie mille Giacomo Bubba gentilissimo poi abbiamo Silvia Cernigliaro che probabilmente avrò letto male il nome no dovrei averlo detto che dona cinque euro grazie mille Silvia da quando ti conosco non da molto mi piscio dalle risate sei fantastico grazie per le risate che mi fai fare era Aldo Baio effettivamente è stato lui mi ha girato la testa è andato anche Aldo Baio abbiamo finito ho finito senza fare nulla fighissimo allora creiamo un altro game bene sono già entrato in un'altra partita sono contento comunque Silvia di riuscire a farti sorridere e farti ridere e farti pisciare addosso dalle risate sono contento un bacio comunque poi abbiamo Riccardo Ryu che dona un euro grazie mille Riccardo eccoci siamo già al completo è devastante ragazzi io ogni volta adesso saluterò si caio ciao raga così non posso mettere non posso mettere il simbolino vabbè ciao raga sei il migliore grazie mille ah ma c'è di nuovo che babbaro attenzione quindi può capitare che rientri anche qualcuno che era già entrato c'è anche l'FBI ragazzi siamo fottuti ci stanno tracciando stacca 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 raga purtroppo cioè nel senso è una cosa buona siete tantissimi quindi appena entro nella stanza un macello entrano tutti ma riuscirò mai a essere tipo l'impostore quello che fa fa del male quindi perdonatemi se non riesco a giocare con tutti quanti voi ma veramente ragazzi siete tantissimi in questo momento siamo 13.000 è un po' difficile essendo che al massimo ne entrano 10 capite bene che diventa un po' incasinata la cosa ok va bene ragazzi va bene dai cerchiamo comunque di giocare con più persone possibili abbiamo ancora due ore e mezza circa di tempo non vi preoccupate ok attenzione ragazzi sto facendo le quest sono fortissimo va bene FBI calmo eh non mi fare del male adesso dobbiamo attenzione ehi rimaniamo sempre vicino perché se ci dovesse essere qualcuno che mi vuole fare del male almeno viene visto subito no qua che cosa c'è ah vediamo un po' va bene attenzione tanto aia aia è morto qualcuno discussione ragazzi discutiamo del fatto vediamo un po' cosa si dice dove allora vuoi kebab di nuovo FBI allora FBI ragazzi quando dicono vuoi kebab nascondono qualcosa perché il kebab si sa sicuro non è fancy no raga anche perché ma porca vacca però il live scoprireste subito che sono stato e vabbè ma così non vale ma e vabbè dai allora proviamo a dire FBI FBI ragazzi io dico FBI io ho votato FBI non abbiamo prove però però io dico FBI perché finora ho detto cose a caso e ci ho sempre azzeccato attenzione raga vi ricordo ogni tanto di iscrivervi al secondo canale lo trovate in descrizione e nei canali in primo piano sul primo canale scusate il gioco di parole però è un casino mi raccomando di andarvi a iscrivere se non l'avete ancora fatto c'è il contatore di iscritti lo potete vedere vediamolo salire insieme mi raccomando raga di andarvi a iscrivere adesso se ancora non l'avete fatto dai ragazzi abbiamo votato tutti no ancora no manca che babbaro e nictla nilkta non so leggere è morto forza inter è andato forza inter secondo me FBI eh lo dicono i voti non dicono ah 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 quattro persone hanno votato FBI vediamo un po' no vabbè è solo un mostro ragazzi sono fortissimo era lì postone rimane ancora uno attenzione ragazzi attention attention stiamo facendo cose meravigliose abbiamo ancora qualche quest secondo me anche feggo eh mi sta seguendo con quel robottino ho un po' paura devo essere sincero eh stiamo tutti quanti vicino calmi vediamo allineamo ok va bene qualcuno ha fatto cose brutte siamo vediamo un attimo ehi no è lui eh ok no va bene pensavo mi volesse ammazzare quando succede questa cosa cosa che io devo fare non lo so riempiamo possiamo riempire no questa volta non si può riempire la tanica di benzina apriamo la mappa allora vediamo un po' eh raga io provo ad andare qui a weapons cosa devo fare qui ok perfetto sto completando le missioni gli obiettivi posso fare emergenza no non la faccio perché in teoria questa si fa per parlare con le persone per dei dubbi cose non lo so non lo so eh raga non lo so voi vedete comunque tutto quanto bene tutto a posto vero raga non lagga si sente bene tutto ok ehi secondo me è lui vabbè facciamo questa facciamo allora ditemi se vi piace comunque vedermi giocare su among us live con voi raga perché ve ne porterò sicuramente altre in caso perché mi piace non pensavo però ci sta come gioco non pensavo proprio però è carino eh qua cos'è cos'è sta roba va bene sono abbastanza semplici per fortuna le missioni per cui stiamo facendo praticamente tutto navigation andiamo qua sulla navigazione fatemi fare ragazzi fatemi fare a me voglio fare cose fighe dai va bene cosa rimane la caffetteria perché immagino che in caffetteria io debba tipo fare cose qua ok va bene mi stanno seguendo tutti io non so se sto facendo la cosa giusta però nel dubbio faccio va bene ho fatto tutto sono fortissimo ora posso fare qualcosa non lo so perché ho fatto questa cosa però io perché ho completato tutte le missioni e quindi mi sono sentito in dovere di farlo ok allora ragazzi dai dai vediamo la chat non è verde si thanks ha fatto lo sca ho fatto ho fatto danni oddio che è meraviglioso questo gioco ragazzi ha sparato agli asteroidi ciao pazzozo va bene va bene allora va bene ciao sono bello quindi che cos'è che bisogna fare io voto feco perché prima mi stava seguendo con quel robottino ho avuto molta paura devo essere sincero non penso sia di nuovo che babbaro cioè sarebbe incredibile due volte consecutive non penso vabbè vabbè io raga sto votando a caso non ve lo prendete in realtà non so cosa sto facendo nella mia esistenza continuiamo nel frattempo a leggere le donazioni abbiamo artiton by tai ragazzi questi nomi allora artiton perdonami se non riesco a leggere il resto ma è un casino allora che dona 3 euro e 50 grazie mille artiton gentilissimo mi saluti mi potresti fare gli auguri auguri artiton non so per cosa ma auguri abbiamo altri 2 euro da marco lanza che succede ragazzi sono mostruoso l'ho azzeccato di ma ragazzi ma è successo qualcosa di strano io vi giuro che non sto leggendo dalla chat allora ho fatto tutte le missioni in teoria guardiamo la mappa si quindi l'unica cosa che rimane da fare è aspettare che l'impostore faccia una mossa falsa faccia qualche danno che ammazzi qualcuno io poi andrò a reportare la cosa e andrò a votare dicendo qual è stato il killer secondo me va bene questo cagnolino però è meraviglioso mi sono chiuso dentro che cosa è successo ci hanno chiuso dentro raga è finita ecco a posto ah quindi si può chiudere aaaaa si possono chiudere dentro le persone attenzione allora aspetta raga ma io non ho letto eh ah perché non ho letto io ho solo visto il tizio che usciva e ho pensato fosse lui l'impostore perdonatemi raga perdonatemi non era lui l'impostore non sono forte stavo scherzando raga non ho letto per quello ho solo visto andare via non ho letto che not in post non l'ho letto non ho letto la negazione perdonatemi raga perdonatemi ora l'ho capito ora l'ho capito e non si sbaglia più quindi non era lui l'ho solo buttato ma povera l'abbiamo buttato nello spazio senza motivo allora però io forse devo continuare a chiedere ah no non posso va bene eh ma che cosa dobbiamo fare però che cosa rimane da fare report use non posso fare nulla quindi ok va bene dai discussione chi sarà mai l'impostore tra questi eh ma non abbiamo abbastanza prove raga non abbiamo abbastanza prove non lo so mi verrebbe da dire facciamo che babbaro dai facciamo che babbaro che prima abbiamo visto che babbaro nascondeva qualcosa riproviamo con che babbaro dai allora raga dai proviamo che babbaro vediamo se ci abbiamo preso dai comunque siamo ancora in 14.000 fissi raga siete fantastici veramente vi voglio un bene incredibile allora continuiamo a leggere anche le donazioni eh abbiamo eh springtrap half tonne 3 euro che si 3 euro half ton 3 che dona 1 euro perdonami grazie mille springtrap half ton poi abbiamo allora vediamo ok niente tiè ma cosa tiè ancora un impostore tiè va bene sono bello potrebbe essere il che babbaro il che babbero potrebbe essere il che babbaro raga potrebbe tu che fai qua va bene quindi una volta a persona si può richiedere questo meeting dove si parla va bene va bene va bene io raga non lo so dico che babbaro perché veramente non ho idea proviamo va bene ma come basta accusare a caso io non l'accuso a caso ma cosa io sono eh era veramente che babbaro ok ci ho preso ma lui si è tipo è arrivato dice sono io basta sono io si è arreso va bene votiamo che babbaro ragazzi che babbaro che babbaro era qualcuno è uscito da gioco era l'impostore va bene dai 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 è andata anche questa che babbaro dai forza inter let the game eh ok era l'impostore va bene dai va bene victory 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 create game dai speriamo che entrino anche persone che ancora non hanno giocato eh mi piacerebbe vedere tante persone continuiamo con steven e spinoraptor che dona 2 euro grazie mille steven ciao fancy se mi video lo scusa se sono pochi cosa scusa non dovresti neanche donare steven grazie di cuore un bacio ok 4 5 10 perfetto spero ci siano persone che non sono ancora entrate raga perdonatemi in caso non c'entro niente io di nuovo io niente eh raga io non ci posso fare nulla eh io non ci posso fare nulla se non riuscite a entrare raga non so come fare ma se faccio così che cosa succede ah posso buttare fuori allora raga facciamo non prendetevela se butto fuori qualcuno che ha già giocato per dare la possibilità di far entrare qualcun altro anche per tu fan raga non ve la prendete che eh avete già giocato magari così diamo più possibilità eh anche ad altri di entrare eh proviamo a fare così proviamo dai raga io non scelgo io allora facciamo così dai non ve la prendete raga l'ho fatto uscire anche che no ban no allora vediamo sono entrati altri altri due speriamo che questa volta anche galaxy in teoria lui era già entrato così facciamo giocare anche altre persone raga non ve la prendete eh vispat su camello vabbè dai in teoria ora siamo tutti nuovi speriamo dai speriamo raga facciamo così così in teoria possiamo giocare anche con più persone dai dai facciamo così raga vi siete iscritti al secondo canale vi sto rompendo le scatole in una maniera indescrivibile però mi raccomando eh mi raccomando iscrivetevi al secondo canale lo trovate in descrizione alla live e anche nel primo eh canale appunto nei canali va bene mi raccomando eh raga cosa cosa non lo so non ho idea va bene qua ci deve essere qualche cosa da dover fare qua che cosa sono entrato in una botola raga ma non so perché quale motivazione ah ma ah ma sono se sono l'impostore raga ecco perché questa cosa non l'avrei dovuta fare vedere vero allora sono l'impostore raga allora devo ammazzare chiunque e anche sabotare le persone e vabbè allora però così è sbagliato perché in live ve lo sapete non è giusto io non dovrei dirlo eh mi sa che questa cosa non è non è giustissima per chi guarda la live non ha senso raga allora facciamo così quando sono io mi votate e bom e rifacciamo un'altra votatemi raga perché se no non ha senso non devo essere mai io l'impostore perché tanto lo sapete dalla live non dovevi farti vedere eh ma tanto raga lo potete vedere direttamente dalla live che sono io raga dovete capire una cosa no oltre al fatto che non mi ero neanche accorto del fatto che fossi io lo potete vedere dalla live che sono l'impostore non è che non sono capace lo vedete c'è scritto impostore dai votatemi così sono altri a fare gli impostori dai raga così ci divertiamo io che c'entro è ovvio che lo vedete subito che sono io dai dai mi voto da solo ma si può ma cosa mi posso votare da solo va bene allora va bene dai raga va bene allora raga dai sono esploso non sono esploso e va bene allora dai proviamo ad ammazzare qualcuno però vedete se tutti mi seguono capite come faccio tanto lo si vedrebbe subito questo con la zucca in testa vabbè se ragazzi mi seguite non capite che non posso farcela proviamo a essere un po' tutti distanziati così quando succede l'irriparabile chissà chi è stato e ecco perfetto appunto allora raga allora raga misto tanto nessuno sa che sono io tutti in silenzio chi sarà mai stato io non ho idea dove dove non lo so ragazzi caffetteria non è vero stai mentendo ma smettila ma raga ho appena visto qualcosa che non dovevo vedere raga 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 votatemi non vi preoccupate raga dobbiamo far giocare più persone possibili allora tralasciando un attimo il gioco perché sta succedendo qualcosa che non dovrebbe succedere no perché eeeh andrea 2013 dello vicario che cosa è successo andrea parla andrea dici un po' perché hai appena donato 120 euro andrea dici perché hai appena donato 120 euro andrea no andrea riprenditi i soldi dai dai sto aspettando andrea perché ragazzi che cosa andrea che cosa ma cosa stai dicendo andrea no eh no non è quello l'obiettivo della live io voglio solo stare insieme a voi divertirci insieme che fai che fai andrea no eh veramente te lo sto dicendo eh ma che marrabbio allora andiamo a leggere anche le altre donazioni perché ce ne sono tante altre ragazzi non fate ste cose ragazzi non è necessario io voglio solo che non mi hanno trovato sono stato fortissimo voglio solo che passiamo un po' di tempo insieme io non ho eh interesse nel nel cioè non dovete donare allora adesso voglio ok cosa sto facendo cose raga non so però se è giusto ok ho sabotato ho sabotato e va bene così forse ho fatto qualcosa di carino andrea non puoi fare queste cose lo capisci andrea andrea io volevo soltanto passare un po' di tempo con voi allora le queste parole possiamo fare attenzione vediamo eh vediamo un po' dai ragazzi votatemi dopo ok emergenza dai votatemi così facciamo giocare più persone possibili vediamo eh ah dio allora ragazzi dai mi voto mi voto allora ragazzi per chi si fosse sintonizzato in questo momento non decido io chi far entrare in partita io abbio poi a caso credetemi fosse per me vi farei giocare a tutti adesso se nella prossima partita dovesse entrare qualcuno che ha già giocato lo faccio uscire e magari entra qualcuno di nuovo più di così purtroppo non posso fare rimango comunque molto triggerato da questi 120 euro da andrea andrea cosa stai facendo ti ho già detto pensi è esploso e va bene è andata va bene ragazzi grazie però attenzione è rimasto ancora un impostore allora sono morto posso sabotare però io non so se sto facendo la cosa giusta sinceramente non penso proprio però allora continuiamo con vediamo eh Gabriele Romei che dona un euro grazie mille Gabriele poi abbiamo fans vgf che dona un euro grazie mille fans vgf poi abbiamo blaze yaia una cosa del genere ma l'avrò detto sicuramente male che dona un euro grazie mille blaze abbiamo altri 5 euro sempre dal nome giapponese scritti perdonami perdonami non so come leggerlo per ringraziarti che mentre ero in un periodo difficile mi hai salvata grazie di tutto ti adoro sei migliore un bacio sono contento di essere riuscito a aiutarti in qualcosa abbiamo perso abbiamo perso e va bene sono contento comunque di essere riuscito in qualche modo a farti stare meglio in un periodo difficile spero che ora sia tutto ok sia tutto a posto ecco mi sa che stavolta non partirà la partita invece è partita stavo scherzando comunque veramente sei gentilissima un bacio poi abbiamo Matteo Monteforte che dona 2 euro grazie mille Matteo sei il migliore sei il migliore e sei il mio youtuber preferito grazie mille Matteo un bacio allora abbiamo manganello fancy fake allora vediamo un po' eh vediamo doctor lezzo sud lol per tu fande ecco per tu fande in teoria allora per tu fande perdonami ma così facciamo giocare più polaretta ecco gli altri in teoria non sono ancora mai entrati eh devo scrivere ciao raga ok ok allora startiamo no veramente ragazzi comunque siete gentilissimi con me siete sempre troppo gentili raga iscrivetevi al secondo canale mi raccomando in descrizione lo trovate lo trovate iscrivetevi c'è il contatore di iscritti in tempo reale facciamolo esplodere dai che ce la facciamo ragazzi siamo fortissimi facciamolo esplodere dai crewmate dai non sono l'impostore dai ragazzi iscrivetevi al canale dai forza così che credo in voi dai ragazzi allora andiamo a fare le missioni allora raga mi raccomando cerchiamo di cosa ah devo buttarle fuori non avevo capito mai nella vita va bene l'importante è capire c'erano le foglie nel condotto va bene cerchiamo di non essere tutti troppo vicini perché ragazzi così almeno il gioco è più fattibile se siamo tutti vicini uno non riesce neanche a chillare non riesce a fare niente capito no mi raccomando raga cerchiamo di distanziarci dai allora ragazzi dai niente niente c'è un omino che corre io intanto faccio le missioni eh vi piace vi piacciono le live così le live così cos'è ci sono anche dei diamanti ho appena buttato un diamante sono folle dove sono le missioni ok vediamo spero vi piaccia la live fatta in questo modo raga lo spero tanto sinceramente la cart no no non va non sono riuscito madonna la violenza mi sono girato un secondo mi ha dato un pugno in faccia e mi ha sparato in nola una violenza inaudita ragazzi e che cos'è eh va bene sono morto sono un fantasma però le missioni le posso ancora fare eh allora andiamo nel reattore vediamo un po' vediamo nel reattore eh hanno riportato il mio cadavere esploso allora ciao manganello ehi blu dicono che sia il blu io non posso votare non lo so chi sarà mai lo scopriremo a breve ragazzi iscrivetevi al secondo canale lasciate un bellissimo like alla live se ancora non l'avete fatto siamo a 12.000 spettatori con 16.000 mi piace una roba mostruosa grazie a tutti ragazzi madonna vi voglio un bene della vita grazie di cuore a tutti allora ragazzi intanto voi potete vedere la chat io continuo a ringraziare le persone che hanno donato abbiamo red hot che dona 2 euro grazie mille red hot per parlare si usa discord ahhh capisco va bene ragazzi ve lo dico la prossima volta faremo anche discord e vi garantisco che potremo parlare anche va bene facciamo così dai 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 poi abbiamo nick 745 che dona 2 euro grazie mille nick gentilissimo poi abbiamo matilde mastro stefano che dona 1 euro grazie mille matilde emanuel capelletti che dona 1 euro grazie mille emanuel ehhh non vi insultate raga raga non vi insultate ci stiamo solo divertendo a un videogioco dai che la cosa che conta è giocare e passare un po' di tempo ma come va ciao ma ma è un gioco raga manganello è uscito ma io posso votare no non posso votare manganello se le pre... raga è un gioco dai va bene dai spero che rientri dopo abbiamo valentina perego che dona 5 euro e 50 grazie mille valentina veramente troppo gentile ciao sono samuel hanno ok e samuel è col profilo della mamma ho 9 anni ti seguo sempre anche sull'altro canale mi saluti per favore essere il numero 1 grazie mille samuel e baldoni gentilissimo ti mando un bacio ok non hanno votato tutti quanti quindi sta per finire la votazione vediamo un po' cosa succede vediamo nessuno penso che verrà buttato fuori ho questo presentimento e infatti è andata poi abbiamo baby k ari che dona 2 euro ti adoro tanto mario grazie mille baby k ti mando un bacio grazie di cuore allora vediamo un po' eh io provo a fare comunque le missioni non so se ci sono ancora tutte le persone cos'è che è successo spero niente di eclatare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 ragazzi incredibile sono ancora a contare fino a 10 questa è prova di abilità andiamo da admin vediamo un po' penso che sia l'ultima cosa che dovrò andare a fare che è questa qua che però forse è un casino ah vedi non riesco a farla allora no per perché non me la fai fare non riesco a mettere una carta ho dei problemi va bene l'emergenza è stata chiamata allora io voterò polaretta sempre se mi fa votare non posso votare perché sono morto allora io ho detto polaretta ciao lmao che ho letto male il tuo nome lmao polaretta perdono ho detto a caso io ho detto a caso allora ho detto a caso non lo so non lo so raga iscrivetevi al secondo canale mi raccomando dai facciamo dei numeri mostruosi eh poi abbiamo 1 2 track che dona 1 euro grazie mille 1 2 track poi abbiamo matilde mastro stefano che dona un altro euro grazie mille matilde gentissima poi abbiamo nicola moro che dona 1 euro grazie mille nicola pie pie cristian cantaluppi che dona 3 euro e 50 un esploso ecco l'impostore comunque grazie mille pier cristian abbiamo vinto per i tuoi 3 euro e 50 veramente grazie di cuore creiamo un'altra partita siamo in live da 1 ora e 10 dai dai raga stiamo in live in totale fino alle 21 e 30 poi abbiamo Jacopo Rubino che dona 1 euro grazie mille Jacopo gentilissimo abbiamo chat miraculus che dona 1 euro grazie mille chat miraculus vediamo un po' allora ciao bob ciao raga ok vediamo Yoshi in teoria tutti nuovi buono dai così faccio giocare più persone possibili dai dai ci sta ci sta ci sta allora ragazzi cerchiamo di far giocare più persone possibili come vi ho già detto purtroppo non dipende da me appena avvio la stanza si riempie ok non sono quello che pensavo di essere vabbè raga come vi ho già detto cerchiamo di essere distanziati così riusciamo a fare una partita capito no cerchiamo cerchiamo di essere un po' distanziati niente perfetto siamo tutti insieme e vabbè vabbè dai posso comprendere è già morto uno e la mamma mia che istantaneo vediamo Andrea tu ancora non hai ritirato i soldi eh ti avevo detto di riprenderti i tuoi 100 euro perché non è quello che serve in live non voglio i vostri soldi raga vorrei solo che voi stesse del tempo con me a passare del tempo insieme basta allora grazie a tutti comunque ragazzi vediamo un po' eh è morto ciao Bob che mi ha salutato all'inizio no ciao Bob vabbè chi può essere chi può essere hai bisogno di un bodyguard vabbè fidatevi vi giuro blu dicono blu proviamo blu dai mi fido a caso allora la tazza è bellissima tra l'altro dice 1 2 3 lo penso anch'io è meravigliosa ragazzi comunque grazie mille per i tuoi 5 euro veramente la uso per bere l'acqua è bellissima poi abbiamo Carmine Nacar che dona 5 euro grazie mille Carmine eh ah ma questi li ho già letti in teoria no? per Christian Cantaluppi 2 euro e 30 grazie mille per Christian in caso li ridico poi abbiamo eh Springtrap Afton 3 grazie di cuore per il tuo euro Spintrap Steven Spino Raptor che dona altri 2 euro grazie mille Steven vediamo un attimo la chat eh poi 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 Gang del Bosco che ho già sentito il tuo nome in altre live che dona 10 euro anzi 11 euro Fancy sei un bambino nucleare vabbè in che senso comunque grazie per la tua donazione 10 euro gentilissimo ma non è necessario veramente raga poi abbiamo Paolo Pasqualetto che dona un euro grazie mille Paolo abbiamo Nicola Moro che dona un euro io ho votato sì ok vi lascio la chat poi abbiamo The Winners che dona 2 euro Fancy sei riuscito a leggere i mail che ti ho inviato raga sono tantissime non ce la faccio mai nella vita c'è chi è uscito dal game vabbè cosa è successo uno è stato buttato fuori quello che ho detto io era il blu veramente raga rimane un impostore ragazzi rimane un impostore facciamo le missioni andiamo su navigation vediamo ragazzi se mi seguite tutti capite che eventualmente va bene uno che è l'impostore non può ammazzare non può fare niente perché sono tutti lì va bene vediamo cosa ma il tizio di kebab è andato perché è schippato prima un altro è uscito dal game ho sbagliato ho sbagliato va bene facciamo a caso non lo so mi sono sbagliato va bene dai vediamo un po' abbiamo poi madonna ragazzi mamma mia le donazioni che stanno raga state esagerando secondo me raga io non no abbiamo paolo pasqualetto che dona un euro ok li abbiamo già visti questi sono talmente mi sto confondendo abbiamo un altro euro da artitone vai quel nome che non riesco a pronunciare grazie mille artitone non so dire niente poi abbiamo giammone 21 che dona un euro grazie mille giammone abbiamo aurora maini 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 si che dona un euro grazie mille aurora abbiamo arianna bulargia no mulargia che dona due euro grazie mille arianna mi potresti salutare mi chiamo antonio ok arianna che si chiama antonio ciao antonio poi abbiamo giammone 21 che dona altri tre euro grazie mille giammone siete gentilissimi ragazzi ecco qua abbiamo le donazioni di andrea 2013 dello vicario che dona 115 euro non 120 115 euro andrea riprenditi i soldi non è una cosa che vi chiedo di fare non dovete donare oddio ragazzi perché perché fate queste cose riprenditi i soldi andrea non è necessario poi abbiamo daniela petrocco che dona 2 euro e 30 grazie mille daniela abbiamo augusto brunelli che dona un euro grazie mille augusto abbiamo luca besana che dona 7 euro grazie mille luca gentilissimo bella fengzi mi saluti ti prego ti seguo da sempre ciao luca grazie di cuore un altro è stato buttato fuori non era l'olimpostore porca vacca abbiamo buttato fuori uno senza motivo va bene abbiamo altre quest da fare non perdiamo tempo vediamo un attimo cosa può succedere raga fatele queste non stiamo tutti vicini che ci divertiamo anche di più secondo me dai ragazzi ok facciamo un po' tutto quanto madonna la violenza mentre stavo facendo una missione mi ha sparato nella nuca attenzione chi sarà mai chi sarà stato non lo posso dire anche se in realtà lo state vedendo dalla live però raga iscrivetevi al secondo canale mi raccomando e se non l'avete ancora fatto lasciate un bellissimo like alla live è tutto gratuito sia l'iscrizione sia il like mi raccomando eh raga allora dai che resta soltanto un impostore io sono morto così cerchiamo di far come dire giocare più persone possibile siamo in live da un'ora e venti fino alle 21 e 30 oggi staremo in live eh raga siete contenti vi piace questa cosa ci sta poi ne faremo altre comunque di live eh sempre su amongaz questa volta magari metteremo punto discord e così possiamo proprio parlare secondo me ci sta allora poi abbiamo the best tiger che dona 2 euro grazie mille the best tiger allora è stato buttato fuori era lui l'impostore mi ha sparato tantissimo è andato abbiamo vinto abbiamo vinto anche se sono morto abbiamo vinto ok proviamo a creare un altro game vediamo un po' perfetto stiamo andando nello spazio che entrerà questa volta il codice ah è questo qua il codice forse scrivendo questo potete entrare non lo so raga comunque questo è il codice allora vediamo un po' eh vediamo un po' se c'è qualcuno ecco questo in teoria possiamo farlo uscire va bene siren head ok gli altri in teoria non ci sono mai stati finalmente oh dai 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 ciao raga oh dai 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 ci sta siamo già in 10 ci sta allora poi abbiamo marco nibbio che dona 2 euro e 30 grazie mille marco gentilissimo mi mandi la richiesta su fortnite ragazzi siete tantissimi non riesco a mandare la richiesta a tutti semmai me la mandate ma tetanis è uscito esploso no se piuttosto me la mandate voi la richiesta io cercherò di allora accettarle tutte non lo so perché siete tanti sono tipo 700 richieste di amicizia una cosa del genere raga non siamo non stiamo tutti vicino secondo me non ha senso così allora dai è già morto qualcuno attenzione discussione chi sarà stato ciao ragazzi ciao 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 ragazzi ciao a tutti allora chi è stato chi è stato io ero in armi va bene dove arancione ciao mamma sono famosi ma cosa dicono arancione allora facciamo che ci fidiamo di ah mister cheese con il formaggio volevi fare il furbo capisco siamo comunque 10.500 spettatori ragazzi siamo tantissimi non è mai successo prima siamo arrivati addirittura a 15.000 16.000 forse per un attimo una roba devastante madonna siete fantastici raga grande ritorno su youtube dopo lo strike che in teoria doveva durare ancora un bel po' per fortuna me l'hanno tolto se no raga era un casino grazie mille per tutto il vostro sostegno e supporto raga grazie di cuore un bacio a tutti vi voglio bene andatevi a iscrivere anche al secondo canale lo trovate in descrizione nella live e anche direttamente nel primo canale tra i canali in primo piano andatevi a iscrivere c'è il contatore di iscritti in diretta facciamolo esplodere raga mi raccomando iscrivetevi e se non l'avete ancora fatto lasciate un bellissimo like alla live e iscrivetevi anche al primo canale ovviamente vabbè ovviamente chiedono se tu l'impostore e lui dice no che deve dire sì allora ragazzi per fortuna non c'è più lo strechi quindi in questi giorni torneranno video sul canale torneranno prima sul primo canale e poi ci saranno anche video sul secondo per cui vi chiedo per quello di iscrivervi perché ci saranno dei video almeno così ci saranno più persone possibili che lo guarderanno mi raccomando di andarvi a iscrivere raga fancy2 in caso comunque lo trovate sul primo canale in descrizione nella live dappertutto allora abbiamo Daniela Petrocco che dona un euro grazie mille Daniela abbiamo Lezzo Sudicio che dona un euro grazie mille Lezzo stiamo votando vediamo un po' mister cheese mi sa che ti hanno votato un po' di persone è stato buttato fuori sì sì è stato lui era un impostore va bene ne rimane soltanto uno eh raga facciamo le missioni ok vedo che comunque ora non siamo tutti vicini forse questa è una cosa buona niente emergenza richiesta quanti siamo non so cosa sia successo non lo so non lo voglio sapere abbiamo vinto nel dubbio abbiamo vinto vai facciamone un'altra facciamone un'altra raga come prima in caso dovesse esserci qualcuno che è già entrato lo si fa uscire per dare possibilità agli altri di giocare vediamo un po' chi entrerà mister buff va bene vediamo vediamo siete tantissimi allora lucia oliviere swat bella fancy leg in teoria nessuno è doppione ecco che è già entrato prima raga in teoria dovremmo essere tutti nuovi startiamo la partita non ho il tempo neanche di leggere perché subito entrano persone e devo startare va bene dai va bene allora allora vediamo non ho il tempo neanche di leggere la chat raga sinceramente perché no probabilmente questa cosa che sto facendo non ha senso perché tanto le persone lo sanno ma ma allora io oserei dire che chi è stato rosa è stato rosa è rosa no mister buffo cosa stai dicendo cosa eh esatto mi dissocio bravi è stato è stato chi ha detto che sono stato è stato è stata Lucia è stata Lucia io voto Lucia ma cosa allora eh allora ragazzi dai leggiamo un po' la chat ragazzi per chi non riesce a entrare dovete capire che siete veramente tantissimi quindi appena starto la partita si riempie all'istante perdonatemi ma non ci posso fare veramente nulla non dipende da me fosse stato per me vi pare giocare tutti quanti contemporaneamente però non si può fare abbiamo Gaia Casano che dona 15 euro ragazzi ma state donando un po' troppo troppo raga grazie mille Gaia gentilissima abbiamo altri 5 euro da best tiger se il mio youtube è preferito in un momento che ero solo cioè non avevo amici tu mi hai aiutato facendomi sorridere e per questo te ne sono grato veramente un bacio sono contento di essere riuscito a tenerti compagnia e magari a strapparti anche qualche sorriso mi fa veramente piacere ok vediamo vediamo abbiamo poi Laura fan bgf che dona un euro grazie mille Laura abbiamo Nigro Francesco che dona 5 euro e 50 grazie mille Nigro Francesco abbiamo Mami Diof che dona un euro grazie mille Mami abbiamo Daniela Petrocco che dona 2 euro e 30 abbiamo di nuovo Schietjeico che dona 2 euro scusa se sono pochi però ci tenevo a donare ma cosa sono pochi sono troppi sono troppi non dovreste donare ragazzi oddio ciao Riccardo fratello di Olivier non dovreste donare per cui non mi dovete dire che sono pochi che dite che dite abbiamo LNJ che dona 5 euro e 50 troppo raga troppo comunque grazie mille LNJ vediamo un po' vediamo un po' non era Lucia l'impostore io non centro nulla 2 impostori rimanenti io non non so sinceramente chi possa essere l'impostore deve essere comunque qualcuno di veramente pericoloso e soprattutto forte a questo gioco perché comunque vedete si muove in maniera molto furtiva ci sta ci sta ma posso fare non lo posso fare devo essere più vicino allora va bene va bene ragazzi vediamo un po' come andrà a finire questa partita poi comunque ah qua ci sono anche qui le missioni da fare siamo a sabotare no non devo sabotare nulla cosa mettiamoci nella ventola a caso ecco per esempio io questa cosa che ho fatto in realtà è di una roba brutta non dovrei farla vero perché adesso le persone sanno che sono io perché deduco che solo non lo so ragazzi non lo so allora ma guarda che bella parete mamma mia ragazzi chi sarà mai stato discutiamo di questa cosa allora electrical vediamo vediamo mister baffo se n'è andato raga è un gioco non prendetevela sul personale dai dai che è soltanto un gioco io segno persone allora poi comunque raga se volete portiamo anche altri giochi non è un problema oggi volevo giocare ad among us per la prima volta mi andava per cui ho detto si facciamo sta roba dai proviamo il problema della live su among us è che per l'appunto tutti sapete chi è ok abbiamo vinto abbiamo vinto allora ragazzi che dite continuiamo continuiamo vediamo mi fermo un secondo prima di ricreare un'altra partita vediamo continuiamo ne facciamo un'altra oppure no si 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 tutti vogliono un'altra partita va bene ragazzi va bene pensavo mi stesse annoiando più che altro perché vedo che qualcuno ogni tanto esce detto magari non vi non piace ecco allora creiamo un'altra partita tra l'altro mi fa male la gola mi sta proprio esplodendo allora abbiamo rosaria leone che dona 2 euro grazie mille rosaria o rosaria nel dubbio metto le mani avanti dicendo che ho dei problemi perdonami penso sia più rosaria allora vediamo dizzy giovanni spinacon mr wolf asgorra in teoria persone che ancora non avevano giocato con noi devo scrivere ciao raga no stavo scrivendo ok va bene ok va bene va bene allora facciamo intanto le nostre belle missioni ma piano piano sto imparando anche cos'è che devo fare come che funziona ci sta cos'è sta roba pre ah ok ah questa era la missione madonna santa la violenza la la violenza mamma mia mi ha spappolato l'anima guarda che violenza raga se non riuscite a entrare capite siete tantissimi solo per questo ma in qualche modo cerchiamo di far giocare più persone possibili rimarremo in live fino alle 21 e 30 quindi probabilmente riusciremo a giocare in tanti eh tranquilli abbiamo anche edgelord vgf che dona 2 euro e 30 grazie mille edgelord abbiamo matteo monteforte che dona 2 euro grazie mille matteo abbiamo gabriele vitulli che dona 1 euro grazie mille gabriele ma ma ragazzi non si dicono queste brutte cose non ci si insulta poi abbiamo aec 2020 fai finta che io l'abbia detto bene che dona 3 euro grazie mille aec 2020 poi abbiamo daniela petrocco che dona 2 euro e 30 grazie mille eh grazie mille daniela giovanni r però capisci che tu non puoi insultare non è corretto non puoi non puoi eeeh eccola il classico che deve venire a dare fastidio nell'eper dove c'è qualcuno che si sta solo divertendo sta giocando sta facendo cose e vabbè e vabbè adesso ti butto fuori madonna ragazzi ma perché perché la gente deve fare così non capisco perché addio santissimo ragazzi e vabbè purtroppo ci sono anche persone che non riescono a divertirsi cioè sentono il bisogno di insultare è più forte di loro vabbè vabbè allora vediamo un attimo abbiamo buttato fuori intanto un impostore adesso eeeh purtroppo non posso buttare fuori vabbè allora facciamo finta di nulla voglio essere superiore voglio cercare di non tenere in considerazione quello che succede nelle chat gente che insulta non importa raga dai facciamo finta di nulla emergenza addio Giovanni è andato è uscito a posto ciao è andato è andato Giovanni allora vediamo un po' continuiamo con Gabriele Cepollaro che dona un euro grazie mille Gabriele gentilissimo abbiamo Filippo Vitari che dona 2 euro e 30 grazie mille Filippo abbiamo pane pane e caccoso chiamiamolo così che dona 10 euro grazie di cuore pane pane caccoso un bacio gentilissimo abbiamo oddio ho perso ok abbiamo Gaia Casano che dona 5 euro grazie mille Gaia gentilissima abbiamo Daniela Petrocco che dona altri 2 euro e 30 grazie mille Daniela abbiamo Denny che dona 2 euro grazie mille Denny abbiamo altri 5 euro da pane pane caccoso ciao Spina Conco e fratello cioè Mattia ciao ragazzi allora devo essere sincero non è semplice portare avanti una live in questo modo perché ci sta che tutti vogliano giocare tutti vogliano fare call non è semplice ragazzi cercate di capirmi non è semplice veramente non è per niente semplice cercate di capire che sto cercando di fare del mio meglio tutto qua ma non è semplice allora siamo in live da 1 ora e 37 minuti ancora 2 ore ragazzi un altro impostore preso bene è andata è andata creiamo un'altra partita allora abbiamo di nuovo la gang del bosco che dona 2 euro e 30 grazie mille gang del bosco è l'ora della casa di topolino va bene abbiamo laccio scarpa che dona un euro grazie mille laccio scarpa ok vediamo un po' abbiamo ciro grisan fancy numero 2 ruby e fra ciao in teoria in teoria dovrebbe esserci tutte persone nuove saluto perché è giusto ciao raga ok startiamo poi abbiamo anche Elena Pennino che dona un euro grazie mille Elena abbiamo Danny Vidal che dona 2 euro grazie mille Danny mi saluti sono Sebastian la colca ok facciamo finta di nulla comunque ciao Sebastian la colca ciao ragazzi adesso vediamo qua cosa fare e poi si prosegue vediamo eh ok vediamo un attimo ragazzi porco schifo mi sa che mi ha cuzzato non l'ho visto mi ha non ho fatto niente dove non lo so non mi hanno beccato in realtà io ero ok dove dove non si sa covitti mi saluti ciao ciao letteralmente ciao raga vi state ancora iscrivendo al secondo canale vi state iscrivendo al secondo canale che trovate in descrizione e anche sul primo canale iscrivetevi raga c'è il contatore di iscritti in tempo reale facciamolo esplodere vi chiedo solo questo record mondiale dobbiamo fare raga dai dai che ce la possiamo fare so che ce la possiamo fare dai ecco gli iscritti raga vi prego dai dai vediamo un po' abbiamo luca besana che dono un euro grazie mille luca abbiamo youngies my little kitten che dona due euro grazie mille youngies my little kitten ciao thanks ti adoro mi saluti mi chiamo angela ciao angela un bacio abbiamo altri due euro e trenta da gang del bosco grazie mille gang del bosco ah devo votare ciao no facciamo ok a caso ok vediamo un attimo cosa sta per succedere vediamo un po' ok niente niente schippatissimo francesca viaggi che dona 3 euro grazie mille francesca gentilissima un bacio allora vediamo ragazzi di completare anche ovviamente le quest perché sono important very important people ok qua dovrebbe esserci eh qua dovrebbe esserci ecco no non c'è niente doveva esserci una missione mi sono illuso qua c'è un cadavere allora dove sono qua vediamo eh raga mi raccomando sono stato chiuso dentro mi raccomando di condividere anche la live con i vostri amici così siamo anche di più e ci sono più persone che potrebbero giocare tutti con noi ho fatto una cosa sensata secondo voi penso di sì no dove eh non so dove dove allora ah ok se so ok ok raga sto cercando di capire come funziona il gioco datemi ancora un po' di tempo io dico covid che ci ha fatto passare un 2020 orribile il covid allora io ho votato dove non si sa ragazzi non si sa dove raga dove allora un altro cane baston è uscito è uscito è uscito si è arreso alla mia forza sì allora vediamo un po' ok covid non era l'impostore eh non so il perché io abbia vinto probabilmente mi state facendo vince non lo so ragazzi sinceramente non ne ho idea però nel dubbio vi ringrazio perché sembro forte allora abbiamo glink0 o glinco che dona 2 euro aia iniziamo coi problemi che dona 2 euro e 30 eh grazie mille glinco potresti fare minecraft dopo se vuoi allora penso che oggi dedicherò la live solo a questo visto che non l'abbiamo mai portato mentre minecraft fortnite sì per oggi facciamo solo questo che comunque sembra piacervi come gioco e mi fa molto piacere come cosa però le prossime volte non vi preoccupate che portiamo anche altro ok ce l'abbiamo fatta abbiamo giorno giovanna che dona 10 anzi 11 euro oddio giorno giovanna grazie di cuore veramente grazie 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 gentilissima posso giocare con te nella lobby salutami sono samir boat e yassin allora intanto ciao samir boat e yassin guni l'avrò letti male ciao ragazzi eh se doveste riuscire a entrare volentieri raga perché qua è un po' un casino picasso detective big don rara francesco angelo in teoria in teoria non è mai entrato nessuno tra di loro ok ok dai stiamo riuscendo in qualche modo a far giocare più persone mi fa piacere questa cosa e infine abbiamo itz ale uv itz ale uv che dona 2 euro grazie mille itz ale uv ok ho letto tutte le donazioni mamma mia ragazzi avete donato troppo veramente però grazie di cuore siete gentilissimi il vostro supporto è infinito e non smetterò mai di ringraziarvi però non è necessario donare veramente grazie di cuore ok va bene raga mi raccomando non stiamo tutti vicini perché se no non ha senso cerchiamo di rimanere un po' tutti separati allora vediamo qua ah qua c'è la carta non riesco a farla perché non me la fa fare non me la fa fare questa cosa ma non me la fa fare oh ma 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 avevo dei problemi c'era una cacata ma perché non riuscivo vabbè l'importante è essere riuscito storage il magazzino vediamo un po' qua c'è un'altra cosa da dover fare vediamo un po' ok madonna ragazzi per un millimetro non mi ha preso a me oh dio va bene vediamo un po' dove dove in electrical bella bella atmosfera va a caso allora vediamo un po' io forse però ho visto porca vacca sono stato scemo non ho guardato ho visto qualcosa allora non so se Francesco o detective c'è proviamo Francesco dai proviamo proviamo Francesco dai mi ricordo qualcosa di questo tipo abbiamo anche Ilaria imperato che dona un euro grazie mille Ilaria gentilissima raga se non riuscite ad entrare è perché siete tantissimi quindi appena creo la partita e si riempie subito la stanza più di 10 non posso far entrare quindi perdonatemi non ci posso fare veramente nulla io bisogna rimanere a queste regole cioè al fatto che ecco non si bestemmia raga non si bestemmia al fatto che più di 10 non possano entrare allora ora posso dedicarmi anche alla chat raga facciamo aumentare il contatore di iscritti in tempo reale mi raccomando eh Francesco non era lui l'impostore porca vacca perdonami Francesco ho sbagliatissimo allora vediamo qua vediamo eh adesso leggo anche un po' la chat saluto qualcuno dai ragazzi con il like e soprattutto iscrivetevi al secondo canale condividete con i vostri amici la live il secondo canale dite ai vostri amici di iscriversi mi raccomando è importante raga mi raccomando eh ok aia altra esplosione allora io potrei essere tentato nel dire che aspetta vediamo dove vediamo eh secondo me è stato McDonald's ho questa sensazione c'è chi esce vabbè McDonald's secondo me è McDonald's ho visto un piede nero aia McDonald's non prendetela con me non ce l'avete con me allora abbiamo altri 2,30 euro da Andy sul chia spero di averlo detto bene grazie mille Andy comunque raga iscrivetevi al secondo canale mi raccomando eh lo trovate in descrizione o nel primo canale ve l'ho detto mille volte ok non era lui l'impostore ok va bene va bene allora dobbiamo andare qua vediamo un attimo facciamo le quest bene madonna sono morto malissimo e abbiamo perso in automatico non so il perché allora prima di startare un'altra partita leggo un pochino la chat magari saluto anche qualcuno di voi perché giustamente c'è chi magari sta scrivendo da tanto allora va bene ragazzi allora tra l'altro sono arrivati altri 2 euro da skitty yeiko sto sbagliando in continuazione del tuo nome però grazie di cuore puoi salutare la mia amica Auri grazie ciao Auri un bacio a tutte e due grazie di cuore allora saluto 10 persone ragazzi però prima voglio vedere a quanti iscritti siamo sul secondo canale siamo 12.100 iscritti ragazzi 12.000 l'ultima volta prima di iniziare a giocare eravamo 7.000 e qualcosa quasi il doppio ragazzi però non basta ce la facciamo a prendere qualche altro iscritto io ho visto adesso eh dai ragazzi riusciamo a fare qualche altro iscritto dai ragazzi dai dai facciamo salire il secondo canale dai raga lo so che chiedo tanto iscrivetevi raga facciamo esplodere il contatore di iscritti 12.100 siamo per il momento riusciamo ad arrivare a 20.000 lo so che è tanto se anche di più poi vabbè robe incredibili però ce la facciamo condividete con i vostri amici il canale raga allora adesso saluto 10 persone abbiamo anche Katiusha Tosi che dona 2 euro grazie mille Katiusha lasciate like anche la live se non l'avete ancora fatto iscrivetevi e raga allora ciao Lisa Bo ciao Lucia Greco ciao Lorenzo Murdaca ciao Amira Belkir che avrò letto sicuramente male il tuo nome perdonami cara poi 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 abbiamo ciao Daniela Incicco ciao Riccardo Schiazza altre 5 persone vediamo un po' ciao Spuglio o Spuglio l'avrò detto male uno dei due spero che sia giusto comunque ciao carissimo altre 4 persone poi dopo ne saluto altre 10 raga abbiamo ciao Kim Tai Jung spero di averlo detto bene poi ciao Asterisk 80 ciao Alessandro Giannantonio e infine per il momento l'ultimo ciao Gino Ginello ho salutato 10 persone ma non vi preoccupate perché dopo saluterò altre 10 persone voi però continuate a iscrivervi al secondo canale a condividere la live e lasciare un bel like ragazzi se non l'avete ancora fatto LNJ dona altri 2 euro grazie mille LNJ ah e soprattutto raga non ve l'ho detto seguitemi anche su Instagram eh perché io tra l'altro ho utilizzato Instagram per avvisarvi del fatto che mi avessero dato uno strike e quindi è un mezzo molto importante andatemi a seguire se ancora non lo fate e non lo fate thanks iscrito come su YouTube è normalissimo allora schifo ciccio pic ciccio game eddy lolorenzo benny mamma mia ok ok in teoria tutte persone che ancora non hanno giocato lo spero tanto raga eh non riesco a scrivere stavo scrivendo ciao raga allora dopo saluto altre 10 persone non vi preoccupate raga non vi preoccupate andatevi però a iscrivervi al canale eh allora vediamo un po' weapons vediamo eh raga non prendetevela con me non riesco a far entrare tutti cosa vabbè sono morto a caso stavo facendo una missione a caso raga non ci posso fare niente non posso decidere chi far entrare non dipende da me allora sono esploso sono esploso intanto ciao raga anche se sono morto siamo comunque 8000 spettatori che è tantissimo raga veramente siete tantissimi grazie 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 spero di non annoiarvi raga perdonatemi in caso vi stessi annoiando non lo so spero di no comunque lo spero tanto anche perché non dipende da me comunque ciao a tutti i ragazzi spero vi state divertendo siamo in live da quasi due ore staremo in live ancora un'ora fino alle 21 e 30 dai speriamo che vi state divertendo lo spero tanto eh lo spero tanto abbiamo elias taking che dona 2 euro grazie mille elias felixi ti seguo da un sacco di tempo mi saluti ciao elias un bacio grazie mille grazie di cuore per seguirmi abbiamo fatto uscire uno l'impostore ok abbiamo vinto abbiamo vinto allora se voi conoscete un modo per fare entrare più persone possibili non lo so raga non l'ho fatto io questo gioco non lo so non dipende da me abbiamo spuglio official che dona altri 2 euro in teoria o era sempre di prima no forse era sempre di prima vabbè niente ho detto una cavolata non ci sto capendo più niente gang del bosco che dona un altro euro grazie mille gang del bosco gentilissimo spazio sicurezza dona un altro euro grazie di cuore raga veramente gentilissimi siete sempre troppo gentili allora facciamo un'altra partita dai vediamo mi sta esplodendo la gola sto parlando da due ore sento proprio il dolore qua in questo punto io corro io corro allora ok Artemis vediamo un po' vediamo un po' se sono entrate persone diverse allora Riccardo in teoria si in teoria si 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 raga ciao a tutti ragazzi che è bello che è bello quando entrano sempre persone diverse già non è semplice però ce la stiamo facendo in qualche modo dai facciamo finta di nulla allora mi avete detto che non devo fare questo niente di niente perché altrimenti aiuto gli altri giusto ho capito bene me l'avete detto voi però non lo so eh non so se è veramente così io nel dubbio vi seguo vi ascolto ok facciamo finta di nulla ok ragazzi andiamo avanti ok ok va bene chi sarà mai stato ti adoro ciao sei grande grazie a tutti ragazzi veramente siete sempre gentilissimi con me grazie 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 un bacio allora purtroppo chi segue la live è è per chi non la segue invece è è capito no semplice facciamo ric 9 fast dai allora ragazzi la prossima volta parliamo anche su discord non vi preoccupate per oggi rimaniamo così anche perché già come vedete ci sono un po' di problemini tante persone che vogliono entrare ma che non riescono non è semplice ragazzi non è semplice allora ragazzi siamo 8000 spettatori ancora è incredibile veramente incredibile veramente raga vi chiedo di iscrivervi al secondo canale se non l'avete ancora fatto lo so che vi sto tartassando le scatole però ma come grazie per è felice vediamo un po' lo so che vi sto tartassando le scatole però il primo impostore è andato però raga è importante dai proviamo ad andare avanti vediamo un po' se facciamo qualcosa di carino riusciremo a vincere questo gioco non è forse da fare live ecco perché sennò poi uno è diciamo un po' avvantaggiato vediamo calmi chi è? non ti preoccupare sono stato forte sono stato bravissimo dai comunque me la cavicchio dai raga facciamo che me la cavicchio chi non segue la live non è che mi può sgamare così all'improvviso il problema è chi segue la live ok 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 vediamo un po' nessuno sa nulla nessuno ha visto niente eeeh vabbè vicino ad anni voto FENXY o no? no ma no perché io non c'entro niente io non ho fatto nulla raga non mi fate vincere a caso perché non me lo merito di vincere a caso si deve giocare come è giusto giocare ecco allora abbiamo eh altri due euro da Skitty Eiko Skitty Eiko basta davvero grazie di cuore ti mando un bacio ma non è più necessario donare veramente eh bravo Shifo Gamer io non ho fatto nulla perché ve la state prendendo con me io sono c'è capito eh sono innocente abbiamo anche un altro euro da Ilaria Imperato grazie mille Ilaria veramente gentilissima allora allora ragazzi saluto dieci persone dopo non vi preoccupate saluterò altre dieci persone dovete darmi il tempo però di fare qua guardare la chat ringraziare le persone che donano intrattenere raga non è facile sto sclerando come un babbuino allora io ho votato vediamo un po' siamo rimasti in cinque dopo saluto altre dieci persone raga non vi preoccupate vi chiedo per quanto meno di intanto andare a iscrivervi al secondo canale mi raccomando se ancora non l'avete fatto andatevi a iscrivervi al secondo canale vediamo se entro le ventuno e trenta riusciamo ad arrivare a ventimila iscritti non è pochissimo lo capisco però dai ce la facciamo ventimila iscritti raga niente in realtà mi stanno aiutando tantissimo lo sanno tutti chi sono ma vabbè grazie grazie raga per chi non dovesse riuscire ad entrare perdonatemi raga ma non dipende da me non ci posso fare niente purtroppo la stanza è piccola al massimo dieci persone possono entrare quindi non ci posso fare niente raga perdonatemi io vi direi di in caso segna proprio dire che sono stato io ok così almeno facciamo giocare anche altre persone dai raga allora vediamo eh vai vai dai votate raga non vi preoccupate dai che è solo un gioco fans vgf un euro grazie mille fans vgf kiwi left the game c'è chi esce vediamo un attimo dai vediamo un attimo dai così facciamo giocare anche altre persone poi saluto dieci persone dopo non vi preoccupate raga nel frattempo siamo a 21.700 mi piace veramente ragazzi grazie 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 di cuore veramente un bacio a tutti vi voglio bene iscrivetevi al secondo canale dai vediamo se riusciamo ad arrivare a 20.000 iscritti dai raga vediamo un attimo dai giallo ho visto tutto è viola grazie giallo adesso saluto dieci persone non vi preoccupate non vi preoccupate per chi si fosse sintonizzato in questo momento benvenuti su among us stiamo facendo cose carine insieme rimarremo in live fino alle 21.30 poi concludiamo qua per oggi vi chiedo di andarvi a iscrivere al secondo canale il mio secondo canale che potrete trovare tranquillamente in descrizione della live o direttamente sul primo canale nei canali raga è messo in primo piano mi raccomando di spargere la voce vediamo un po' vediamo un po' nel frattempo saluto altre dieci persone dai 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 8.441 spettatori grazie di cuore a tutti ragazzi un altro euro da sandaloud da gati ah in realtà sono due euro in totale grazie mille sandaloud da gati grazie grazie di cuore allora siamo vediamo un attimo 13.000 iscritti al secondo canale ragazzi 20.000 dai che ne mancano 7.000 ce la possiamo fare raga dai ce la facciamo 7.000 iscritti in un'ora circa non era lui l'impostore è stato buttato fuori ne rimane soltanto uno cosa mi avete fatto vincere cosa comunque vabbè grazie a tutti ragazzi lo apprezzo che mi stiate facendo vincere lo apprezzo mi volete bene è questo che è quello che conta allora iniziamo a salutare 10 persone ciao arianna marine poi ciao mirco lingani ciao betty spi spiniello ciao giulia giulia vediamo un po' ciao paolo ettore piazzolla ciao serena munarin ciao marco ceroni ciao creepy intro introvaia ciao matilde furnari poi 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 vediamo ciao doa bousetti spero di aziccare tutti quanti i nomi raga perché potrei sbagliare tantissimo poi vediamo un po' ancora altre 4 persone dai ciao irene di napoli o di napoli ma dovrebbe essere di napoli è tutto attaccato poi ciao ciao marco navus ciao maria vittoria e ancora uno dai vediamo ciao sofia e virginia sul profilo di laura casoni ciao ragazzi dopo comunque saluto altre 10 persone non vi preoccupate mi avete detto di fare pubblic pubblico pubblic perché a quanto pare possono entrare fino a 100 persone ma possibile proviamo un attimo ah no vabbè ma questo no 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 raga per giocare con voi bisogna fare qua per forza abbiamo alexander dreamer che dona 2 euro grazie mille alexander ti seguo da un po' ti voglio un bene dell'anima grazie mille alexander un bacio veramente grande sei gentilissimo abbiamo tommaso scalisi che dona 1 euro grazie mille tommaso e ionis che dona 5 euro grazie di cuore ionis mi saluti sei il mio preferito ciao ionis gentilissimo veramente un bacio grande allora vediamo un attimo chi è entrato 4 volte per tufande fancy1 raxont carrie jim carrie picasaur socer allora per tufande perdonami ma io ho già sentito il tuo nome mi sa che devo farti uscire gli altri no perché gli altri no non ci sono mai stati però per tufande ti devo far uscire per far entrare qualcun altro o no poi abbiamo anche tommaso scalisi ah no sempre tommaso scalisi che dona altri 2 euro ciao amico puffino come amico puffino ciao comunque tommaso grazie mille per la tua donazione allora ok magari ha preso solo il nome vabbè startiamo vediamo un po' raga ogni tanto facciamo così ogni tanto saluterò persone a caso mi giro saluto poi mi rigiro poi saluto di nuovo facciamo così dai ciao mailene caranto ogni tanto saluto eh facciamo così voi continuate a rimanere sintonizzate sintonizzati non so parlare continuate a scrivere in chat perché ogni tanto mi girerò e saluterò qualcuno dalla chat ok dai vediamo un po' come va questa volta raga non statemi tutti vicino perché altrimenti poi diventa difficile ok già qualcuno è esploso discutiamo vediamo un po' mi piace la pizza per cui ciao so c'è è la quarta volta che entro ti stimo e ti adoro ma no è vero niente eh porca vacca non ci sto capendo più niente c'è troppa gente che entra non riesco a guardare bene ah esce adesso eh però se esci non può entrare qualcuno al posto tu non lo so non lo so chi è stato vediamo un po' io proverei con curry o cherry dai saluto ciao mattia pane barco faccio così adesso mi giro saluto poi mi ritorno qua poi li saluto guarda ragazzi sto sclerando è difficilissimo qua qua lì qui no ok allora vediamo un po' skip addio cherry allora 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 siamo 7300 spettatori siamo ancora tantissimi grazie per il supporto ragazzi siete fantastici unici unici rimarremo in live fino alle 21 e 30 per chi non lo sapesse per cui dite ai vostri amici di venire in live comunque grazie mille bellissima live ma veramente grazie a te ma è volata fuori non era l'imposto ma no perdonami grazie mille per il complimento eh ma il gioco è così eh all'improvviso ti ritrovi persone che vengono buttate fuori che non c'entrano nulla allora dove mi trovo eh ho sbagliato strada no andare di qua per fare le quest vediamo facciamo qua eh sono morto sono morto sono morto sono morto lascio posto agli altri veramente quarta volta grazie mille eh niente rip thanks e c'hai ragione anche tu no pizza rip thanks esploso thanks è morto ciao wolfi soffi gaccia 55 ciao corrado rapozzati spero di azzeccare i nomi raga iscrivetevi al secondo canale adesso faccio parte della gang dei fantasmi ci avete ragione anche voi siamo a 13.300 iscritti al secondo canale dai raga con le iscrizioni dobbiamo arrivare a 20.000 raga dai che ce la facciamo siete fortissimi io lo so iscrivetevi raga iscrivetevi bravo bravo non si uccide fangsy non si uccide allora vediamo un po' ho la gola in fiamme tra l'altro siamo a 22.500 mi piace tantissimo raga veramente tantissimo grazie di cuore a tutti raga mi raccomando iscrivetevi al secondo canale dai è così ragazzi iscrivetevi è gratuito raga è tutto gratuito non si deve ma raga figuriamo dovete ammazzarmi anzi figuriamoci la fangsy si non si fa ma è bravo allora ciao Giacomo Lattanzio è stato buttato fuori qualcuno l'impostore l'impostore fangsy uno tra l'altro oh guarda che bello andiamo a fare le quest già che ci siamo facciamo qua ok opla dai facciamo così facciamo così queste le abbiamo qua sono diventato fortissimo dai sarà ma proprio sarà andiamo a ah ci sono un bel po' di missioni qua eh lower engine facciamo qua ok ok vediamo un po' chi sarà ragazzi tranquilli che saluto altre 10 persone poi dopo ogni tanto mi girerò e saluterò non vi preoccupate vediamo un po' ma non importa fangsy uno non ti preoccupare è giusto così e il gioco è fatto apposta ha ucciso in fronte che vita di vabbè alla mia faccia non scherzo fangsy versus uomo vaso da notte vi dico già ragazzi che tornerà anche quello non dico altro probabilmente già nei prossimi giorni ci sarà un gameplay sull'uomo vaso da notte sapete no quello che va in giro col martellaccio io ve l'ho detto io metto le mani avanti allora ciao Stefano Facchinelli Stefano Facchinelli ciao Riccardo col profilo di Valentina Sperti vediamo un attimo ciao ti prego no nel dubbio ti prego no chi è stato buttato fuori niente nessuno ancora niente allora vediamo un attimo ci sono altre cose da fare assolutamente si andiamo qui facciamo qua che questa per fortuna è molto semplice ma in realtà tutte le missioni sono semplici ok andiamo al reattore andiamo qua vediamo un attimo eh ma questo non so come farlo ah ho capito ho capito madonna ci ho messo un'ora ok cioè facciamo la musica ok e la figo ora ho capito come funziona ci ho messo due ore e un quarto però l'importante è esserci arrivato allora andiamo qua faccia che figo ok ho finito tutte le quest però sono morto finisci le quest per vincere eh le ho finite quindi dead body andiamo un po' da bravo fantasma le ho fatte anch'io eh eh ero si ma è stato secondo me è stato picasaur allora Fancyport a GTA va bene ragazzi però non oggi eh lo riporteremo non vi preoccupate non vi preoccupate abbiamo Shani Pramad che dona un euro grazie mille Shadi e sempre Tommaso Scalisi che dona altri due euro sei grande puffo sei un grande puffo va bene grazie grazie Tommaso lo penso anche io sono un puffo gigante allora raga vi siete iscritti al secondo canale avete fatto dai ragazzi all'iscrizione al secondo canale che troverete in descrizione andatevi a iscrivere tantissimi c'è il contattore di iscritti che deve esplodere riusciamo ad arrivare a 20.000 prima che si chiude la live ne mancano esattamente 6.500 di iscritti ce la possiamo fare secondo voi è fattibile è andato via uno col cappellino l'impostore l'abbiamo trovato bom si vince buono così allora vediamo ciao dream hello ciao luminite bordia ciao eugenio cantalupo ogni tanto ve l'ho detto saluterò persone a caso vediamo un po' jack frost bret pitt che noia bleddy john gamer fra totta traliccio b traliccio b e gesù cristo ma cosa ma perché allora john gamer ciao sei bravissimo grazie mille caro grazie veramente a tutti di cuore raga ma perché ho scritto ragazzi ah perché potrebbe essere qualcos'altro va bene comunque dai startiamo startiamo siamo in 6746 spettatori 13700 iscritti dai e così ragazzi i 3700 iscritti al secondo canale mi raccomando di andarvi a iscrivere abbiamo sarà bondioli che dona 2 euro ti adoro thanks grazie mille sarà veramente gentilissima gentilissima e infine abbiamo anche danilo scebba o scebba che non so giocare dona 2 euro ok grazie mille danilo gentilissimo giochi con me danilo purtroppo siete no purtroppo no per fortuna siete tantissimi il che vuol dire che è difficile far giocare tutti perché appena avvio la partita succedono cose come puoi vedere si riempie subito allora il corpo ci ha salvato dai allora ciao margherita ciao concetta bulmetti ciao elisabeth palcic ciao daniel stamera daniel stamera e si ritorna qui si ritorna a giocare vediamo un po proviamo con gesù cristo lui non si dovrebbe poter votare voglio dire non penso che gesù cristo faccia queste cose però mi viene il dubbio che potrebbe essere lui potrebbe essere lui allora 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 apriamo la chat fra smetti di spammarti va bene dai va bene va bene dai va bene va bene vi sto rompendo le scatole avete ragione avete ragione ma cosa allora dai votiamo tutti manca totta vediamo vediamo un po si parte gli insulti che non sono necessari ok è stato buttato fuori uno che non era l'imposto gesù cristo è stato buttato fuori non era però lui l'impostore ho fatto un fail clamoroso allora vediamo un po vediamo facciamo così ok ho fatto sembrerebbe di si no non ho fatto take a break ma non lo so non lo so dopo raga saluto a tettici persone tranquilli non vi preoccupate vediamo un po mi pare anche le quest ho la gola esplosa raga letteralmente esplosa ok vediamo chi sarà mai stato raga ascoltatemi allora cambi gioco mi sto annoiando eh raga vediamo ciao giovanni chiala che in realtà stefano col profilo di giovanni chiala c'è stefano ciao stefano allora il verde scuro ha ventato ma non è l'impostore perché ha fatto lo scan non so di cosa state parlando ciao kabir isan vediamo un po ciao alessandro cassetta alessandro non decido io chi far entrare in partita non posso scegliere io io voto brett pitt non ho avuto il tempo di votare assolutamente allora raga facciamo una cosa facciamo l'ultima che dite facciamo ancora una e poi basta dai prima di avviarla ditemi facciamo ancora l'ultima e poi basta io faccio quello che dite facciamo l'ultima poi basta in teoria stiamo in live fino alle 21 e 30 no 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 si no molti no molti vogliono continuare a vedere il gioco ci sono però anche dei si ci sono persone che vorrebbero che io faccia l'ultima partita per poi smetterla però molti altri invece che vogliono una continuazione che faccio spero di non annoiarvi raga più che altro ultima no 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 continua tante per favore no no tantissime quanto pare volete vedere volete vedere il gioco va bene spero veramente non vi stiate annoiando raga in caso perdonatemi sto cercando di fare del mio meglio magari non sto facendo benissimo però perdonatemi in caso ma che figo ok voglio essere così cosa posso modificare questa roba qui vediamo va bene non lo so vediamo vediamo chi è entrato gan 790 solo ita mike dravis lion holm jason for fangsy hacker italia prosciutto prosciutto vinto startiamo start attenzione attenzione altri 5 euro da ervale 04 grazie di cuore ervale 04 ciao fangsy volevo dirti che sei un grande spero che presto vedrò un tuo video su i provini del collegio perché fanno spaccare sei da stimare allora ragazzi probabilmente arriveranno anche i provini del collegio però io non dico nient'altro chi lo sa chi lo sa rimanete sintonizzati perché potrebbe arrivare anche il collegio vedremo ok ragazzi dai tranquilli cercheremo di fare più cose possibili insieme non vi preoccupate il fatto che voi già rimanete 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 non si può sentire il fatto che voi comunque rimanete con me in live è già una grande cosa mi fate veramente tanto felice ho la gola veramente ho la gola veramente esplosa volevo dire non è vero ma ma ragazzi ma ragazzi no non sono stato io che dite allora grande felice mi fai sempre ridere ti ringrazio questo vito gesualdo che dona 5 euro grazie vito veramente anche tu grazie di cuore ragazzi un bacio a tutti siete gentilissimi allora ciao paula jack come vi dicevo prima ogni tanto mi giro e saluto qualcuno così a caso vediamo un po' ciao thomas caruso apriamo la chat vediamo un po' ah devo votare però è stato gun 790 ita si assolutamente per chi non riesce a entrare in partita ragazzi dovete capire che ci sono solo 10 post a disposizione in ogni partita ogni volta che parto è già piena la stanza non ho neanche il tempo per cui perdonatemi ma non ci posso fare veramente nulla spero davvero di poter far giocare più possibile le persone e più di voi capito tanti di voi il problema è che siete tanti quindi diventa complicata la cosa vediamo un po' chi sarà mai l'impostore chi è che verrà buttato fuori io penso jason nessuno va bene next next vediamo andiamo avanti prosciutto io l'ho visto prosciutto io ho visto prosciutto eccolo qua prosciutto che viene mi sta vicino prosciutto ciao prosciutto come stai prosciutto allora vediamo un attimo prosciutto è qua c'è lion holm ragazzi state tutti attaccati è un casino ho cambiato la skin quindi adesso ho anche tipo una divisa come se fossi qualcuno di importante sono molto contento di questo security shish reactor e shish di nuovo allora allora vediamo un po' siamo tanti comunque dai buono l'importante è che non siamo tutti appiccicati raga perché altrimenti capite bene che diventa poi un po' complicata la cosa allora vediamo un po' vediamo un po' discutiamo io dico che è stato Italia ah non posso solo ita però ti ho già sentito il tono mi sa che già prima c'eri comunque ciao Andrea mi raccomando ragazzi se avete già partecipato a qualche partita cercate di far giocare anche gli altri così magari giochiamo un po' tutti dai porca ragazzi no cos'è Vito Gesualdo ha donato altri 20 euro Vito non è necessario perché doni 20 euro ragazzi grazie Vito ma veramente non è necessario ma proprio per niente abbiamo Giulia Lanzione che dona un euro grazie mille Giulia abbiamo Gabrix FKL meglio diciamolo così che dona un euro grazie Gabrix e poi abbiamo Manuela Kawaii che dona un euro grazie mille Manuela grazie di cuore ma veramente ragazzi siete fantastici oggi avete dato il meglio di voi 16.000 spettatori in live 23.000 mi piace 14.000 quasi iscritti sul secondo canale siete veramente fantastici veramente va bene ragazzi allora prosciutto di Parma solo Ita manca solo la sua votazione vediamo un po' che cosa succederà allora salutiamo anche ciao oasi atura atu rusinga madonna ragazzi i nomi così mi proprio mi fanno esplodere il cervello non riuscirò mai a dirli vediamo un po' ciao mia angelica lonardoni ciao giuseppe desposito ok nessuno è stato buttato fuori attenzione sto facendo un buon gioco sono rimasti ancora due come si dice impostori attenzione siamo tutti chiusi qua dentro vediamo un po' vediamo un po' sono tutti qua raga sono tutti qua c'è lui con questo animaletto molto simpatico c'è praticamente lui in miniatura molto carino che cavolo è successo mi hanno chiuso la porta in faccia mi sono spaventato tantissimo allora che è successo raga non ci sono mai stato mi saluti un'altra volta sono andrea ti ho già salutato andrea ciao andrea allora proviamo a dire ma in realtà non ha molto senso proviamo a dire questo mike dravis allora allora abbiamo ibrahima gueye che dona un euro grazie ibrahima gentilissimi ragazzi veramente siete gentilissimi nel fratello siamo ancora 6.000 spettatori fissi ragazzi è incredibile veramente un bacio a tutti veramente grazie di cuore per tutto il supporto che mi date ogni giorno veramente ragazzi grazie 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 tra circa mezz'ora concluderemo la live ragazzi siamo in live da 2 ore e 34 minuti a 3 ore di live concludiamo diciamo che per oggi può bastare così visto che è la prima volta che faccio 3 ore di live ma ci stava raga ci stava essendo che comunque c'è stato di mezzo uno strike che sono dovuto rimanere fermo per qualche giorno per fortuna l'hanno tolto come penso abbiate capito quindi oggi 3 ore ci stavano tutte poi con un nuovo gioco che io non ho mai fatto among us perfetto perfetto abbiamo fans vgf che dano altri 2 euro grazie mille fans vgf thanksy ti chiami mario mazzone esattamente fans vgf mi chiamo mario mazzone mi chiamo mario mazzone si allora votate ragazzi vediamo un po' chi verrà buttato fuori vediamo un po' se si vince oppure no allora nel frattempo se non ho visto male siamo 14.000 iscritti sul secondo canale mi raccomando di iscrivervi eh raga è gratuito non costa nulla andatevi a iscrivervi se non l'avete ancora fatto vediamo un po' nessuno ancora è stato buttato fuori attenzione ragazzi attenzione sono rimasti ancora due impostori e non ci sono poi così tante persone ancora nella stanza vediamo un po' come andrà a finire vediamo un po' ok vediamo adesso poi saluto altre 10 persone raga non vi preoccupate non vi preoccupate vediamo un po' dove si nascondono i nostri amici un'altra esplosione di qualcuno vediamo 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 dai vediamo vediamo cosa succede adesso saluto raga tranquilli ho votato ho votato ciao Tommy ciao Salis Poli ciao Emma Strada ciao Manuela Kawaii ah hai donato l'euro mi sono ricordato di te però comunque ciao vediamo ciao Kevin Coli Kevin poi poi vediamo ancora nessuno ciao Giulia Agueli e per il momento ci fermiamo ma poi dopo saluto altre persone non vi preoccupate raga proseguiamo vediamo un po' se riusciamo a fare qualcosa di carino ce la facciamo ok ok dai che questa volta sono riuscito a fare qualcosa di carino dai prosciutto prosciutto e Fancy erano gli impostori raga ci sta allora vediamo ciao Maria Mazza poi ciao Giulia Villa poi vediamo ciao Vincenzo Marchese ciao Francesco Cesaria ciao Giuse oh Dio Giuseana Forte credo di aver detto bene ah no Fiore perdona ciao Giuseana Fiore avevo letto velocissimo poi la chat esplosa dopo saluto ancora non vi preoccupate continuate a rimanere sintonizzati nel live perché continuerò a salutare stiamo insieme ancora circa una ventina di minuti raga e poi per oggi possiamo concludere qua visto che siamo in live da quasi tre ore è la prima volta che siamo in live da così tanto tempo e soprattutto è la prima volta che riusciamo a fare così tanti spettatori contemporaneamente raga prima eravamo 16.000 è un botto vediamo un po' allora vediamo se ci sono Fendi Fanks Sam Jammo Lidl Gino Force Fancy Pompelmo prima c'era prosciutto ora Pompelmo va bene va bene io saluto sempre eh raga io saluto sempre startiamo siamo sempre 10 su 10 ma ovviamente appena parte la partita siamo subito al completo per quello vi dicevo raga che non è semplice far giocare tutti perché come potete vedere neanche il tempo di iniziare siamo già in partita allora io non so cosa devo fare questo è pericoloso ah ho capito non l'avevo capito subito l'ho mancato come ok dai ce l'abbiamo fatta l'importante è farcela andiamo a navigation vediamo un po' se qua c'è qualcosa di carino ok vediamo un po' ah no c'è un'altra missione da fare allora dai dopo saluto raga non mi preoccupate ok vediamo un po' dai ormai ho capito più o meno com'è che funziona ci sta come gioco mi piace mi piace voto 10 allora verde in electrical ciao a tutti ragazzi ciao 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 a tutti raga allora chi può essere stato io dico lui io dico gino 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 allora ciao me bacca ciao vediamo un po' davide marco tulli ciao betty spiniello saluti miei amici antonio e giuseppe ciao antonio e giuseppe vediamo un po' cico x non riesco ad entrare raga ve l'ho detto siete tanti quindi appena parte la partita subito la stanza si riempie all'istante quindi è per quello solo per questo raga non ci posso fare nulla perdonatemi forse per me vi farei giocare tutti ma non è fattibile siete tanti tanti per fortuna oserei dire che siete tanti eh non mi sto lamentando di certo ciao giuseppe piccone ciao andrea beatino ciao gabriele carunchio vediamo un po' io continuo a salutare magari finché qualcuno non viene buttato fuori o non succedono cose intanto vediamo hanno non hanno buttato tutti mancano ancora due persone ciao salvo limatola ciao elena cillotti poi poi vediamo un po' ciao federica castellana poi 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 ciao emma bonanomi ciao antonio cipse buccino ciao gabrie07 vediamo un po' uno è stato buttato fuori con un cappello meraviglioso non era lui l'impostore bene è stato fatto un fail vediamo intanto di completare altre quest ecco infatti navigation devo andare perché devo completare queste queste qua ah perché prima non ho avuto il tempo di fare il download ragazzi tra circa un quarto d'ora concludiamo la live eh perché comunque siamo in live da tre ore ci sta ci sono altre cose ah qua devo andare da admin andiamo da admin andiamo di nuovo devo fare un altro scaricamento di file ciao leticia prifti leticia prifti ma torna mi sono non vi dico che cosa ma sono spaventato mi ero girato un secondo sono sparsi sono apparsi delle mani mi hanno fatto del male allora allora intanto abbiamo altri due euro da schietti che ti ho detto non è necessario donare grazie di cuore però veramente sei gentilissima fengsi fare mai un server discord penso proprio di sì non è il momento però non oggi ma lo farò non vi preoccupate raga lo farò così possiamo giocare e sentirci anche magari ciao matteo podda ciao romina tauro poi ciao lorenzo di costanzo nel frattempo facciamo partire un'altra partita probabilmente sono le ultime raga essendo che manca circa un quarto d'ora penso che anzi manca un quarto d'ora penso che ne faremo altre due forse ancora al massimo questa è un'altra e poi per oggi concludiamo qua raga per oggi si può concludere qua dai tre ore ci sta fengsi tiam gun 790 ita ciao nico ecco però le bestemmie no raga non posso raga non bestemmiate raga vi prego dai non serve a niente anche il gun 790 ita ho già visto in partita in teoria perdonatemi raga ma così almeno facciamo giocare un po' tutti quanti dai ciao raga bene dai dovremmo essere tutte persone che al momento ancora non hanno giocato speriamo di fare veramente questa cosa abbiamo un euro da nicolo porro grazie mille nicolo gentissimo anche tu grazie di cuore raga raga non bestemmiate dai non serve a niente allora allora andiamo qua facciamo qua c'è da fare il download infatti facciamo il download ok 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 perfetto poi devo andare anche in navigation non è brutto come gioco dai magari c'è chi pensa che potrebbe essere un po' monotono e noioso ma secondo me ci sta è carino dai magari lo è un po' di più essendo che siamo in live quindi si vede anche che cos'è che succede dietro chi è l'impostore chi è no però è un bel gioco secondo me dai porta dead by daylight è divertente lo conosco vedremo ragazzi porteremo anche più cose in live non vi preoccupate non vi preoccupate facciamo più cose possibili non vi preoccupate mi sta esplodendo la testa la gola è morta è proprio morta allora dobbiamo votare Wacco mi ispira Wacco vediamo Wacco potrebbe essere Wacco quante volte ho detto Wacco allora ragazzi pur mettendo il codice potreste non riuscire a entrare in tempo perché ogni volta che starto la partita subito la stanza si riempie quindi succede solo questo il codice è giusto il problema è che siete tanti ciao legend 10.0 ciao grazia russi ciao egla ghini ghini l'avrò letto sicuramente malissimo poi 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 vediamo eh rifaremo altre live sempre su among us non vi preoccupate raga ce ne saranno abbastanza di live con anche però dei nuovi video sul primo sul canale e anche sul secondo quindi non mancate eh raga è importante non mancate e soprattutto passate dal secondo canale rimanete sintonizzati e iscrivetevi se ancora non l'avete fatto manca solo una votazione vediamo un po' ciao samuele montironi ciao concetta ferraro caruso madonna mi stanno esplodendo gli occhi raga siamo in live da 2 ore e 48 tra 10 minuti circa raga io direi che possiamo concludere qua vediamo un po' come è messa questa partita mi sa che ne facciamo solo più questa non ne facciamo un'altra raga perdonatemi fosse per me credetemi fare giocare un po' tutti ma vediamo uno è stato cacciato però non era lui l'impostore aia non era lui l'impostore va bene vediamo un po' eh navigation facciamo qua facciamo così ok poi andiamo da admin magari non sono capace a intrattenervi eh raga può essere anche questo che dite voi secondo voi sono bravo a intrattenervi secondo voi sono bravo siete sinceri raga o faccio cacare andiamo in caffetteria perché qua c'è anche un'altra missione da dover fare facciamo qua emergenza cos'è successo vediamo eh allora non so cosa si è successo aversino ciao aversino credo sia il bianco ma non sono sicuro proviamo a votarlo dai proviamo si si sei bravissimo vabbè raga poi certo che voi siete anche troppo gentili con me anche se non lo pensate magari però vi ringrazio lo stesso mi mando un bacio a tutti veramente addio comunque grazie a tutti i ragazzi per il vostro supporto veramente a prescindere da tutto siete sempre gentilissimi con me sono così contento che mi abbiano tolto lo strike principalmente perché così posso di nuovo passare del tempo con voi ho potuto fare la live che in teoria era programmata sempre per oggi ma sul secondo canale non sul primo perché il primo fino a stamattina era bloccatissimo non potevo fare niente per fortuna tutto si è sistemato il bianco quindi si diciamo che è stato il bianco 2 euro da Fancy My Hope grazie mille Fancy My Hope gentilissima potresti salutare il gruppo Crebesin Squad ciao Crebesin Squad un bacio a tutti grazie di cuore ragazzi ciao Massimiliano Cioffi ciao ciccia gialla ciccia gialla poi dovete sapere che la chat è scritta piccolina quindi scorre anche veloce e leggere non è semplice ragazzi tra 10 minuti si può concludere la live certo ormai finiamo la partita ma appena finisce la partita concludiamo questa live perché siamo in live da 3 ore praticamente tra 9 minuti siamo in live da 3 ore è un record dai ragazzi con le votazioni è la prima volta che arriviamo in live per tutto questo tempo e soprattutto in così tante persone veramente ragazzi grazie a tutti di cuore 24.500 mi piace sono tantissimi veramente io di solito ne chiedo 10.000 ne abbiamo fatte 24.000 più del doppio grazie mille non è neanche lui l'impostore niente un altro è stato buttato fuori ma rimangono comunque due impostori scommettiamo che ora esplodo qualcosa mi dice che ora sto per saltare in aria vedrete raga facciamo così non voglio spaventarmi più che altro facciamo tutte le quest vediamo questo cos'è il luogo? emergenza emergenza no ragazzi facciamo fino alle 21.30 anche perché dopo devo fare una cosina importantina devo sistemare alcune cose per il fatto che c'è stato di mezzo lo strike però anziché farlo prima lo faccio dopo perché volevo passare del tempo con voi il prima possibile visto che per l'appunto dei giorni interi non ho potuto per lo strike per cui devo fare dopo edz dico edz vediamo un po' se ci ho preso sammy loves riolu dona 5 euro e 50 grazie sammy veramente sei troppo gentile ciao fancy sei uno degli unici youtuber che seguo perché non sei cambiato neanche dopo il milione di schitti per sbaglio mi perdo grazie veramente un bacio siete veramente gentilissimi forse anche troppo gentili con me grazie 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 raga veramente ciao leonardo fradici ciao aurora aurora leopizzo io e i miei fratelli abbiamo provato a entrare ci chiamiamo aurora alessandro e luca ti seguiamo sempre grazie di cuore ragazzi il problema è che siete tanti 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 quindi diventa difficile poter entrare tutti in una stanza dove al massimo ce ne stanno 10 di persone raga cercate di capirmi non lo faccio apposta cioè io non c'entro niente raga dai appena finisce questa partita per oggi concludiamo qua solo una domanda ma tutte le live su youtube allora rimangono su youtube non vi preoccupate questa qui rimarrà comunque sul canale potrete andarla a guardare quando volete rimane lì raga non vi preoccupate non va da nessuna parte la live una volta che finisce è lì quindi potete guardarla potete condividere con i vostri amici potete guardarla con i vostri amici un'ultima cosa che non vi ho chiesto raga il logo no questa è la collana mi piace vi dico se per natale le facessi fare voi le prendereste siate sinceri voi prendereste queste questi ciondoli non era lui l'impostore l'ho votato non era lui l'impostore ma l'abbiamo buttato fuori rimangono due impostori comunque guardate questo è il ciondolo col mio logo io l'ho fatto diventare collana collana ma può diventare qualsiasi altra cosa come un portachiavi lo si può appendere allo zaino si può appendere un po' da tutte le parti voi lo prendereste per natale perché forse c'è la possibilità di farlo ma cos'è questa cosa non me lo fa fa non lo so c'è la possibilità di farlo però volevo un attimo sapere se emergenza se voi lo vorreste ecco si 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 che figo si ok si bellissimo è questo qua raga vedete il logo perché mi sto avvicinando è il logo in miniatura mi è sempre piaciuto un sacco lo porto da non so più neanche quanto tempo non l'ho mai tolto scusa volevo dirti che le lave erano indietro rispetto al normale è normale raga c'è qualche secondo di differenza tra lo streaming e effettivo nella vita reale è tutto normale quindi da quel che sto vedendo in chat molti vorrebbero questo ciondolo che può diventare collana può diventare un braccialetto può diventare un ciondolo che si può mettere alle chiavi qualsiasi cosa vi piacerebbe quindi per natale poter acquistare questa cosa qui io chiedo raga ovviamente non siete obbligati ci mancherebbe fancy my hope don altri 2 euro sei molto importante per me ti voglio bene un bacio veramente grazie 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 di cuore qualche sospetto se mi saluti ti do un kebab ciao come si legge voglio il kebab io lo aspetto allora ok a quanto sto vedendo tutti vorrebbero questa cosa e non sapete quanto mi faccia piacere perché è una cosa che mi piace veramente tanto rappresenta quello che stiamo facendo in questi anni su youtube raga il canale i nostri traguardi è tutto veramente molto importante per me quindi guardatelo poi farò anche un sondaggio su youtube farò un sondaggio su instagram dove vi chiederò meglio tutto quanto ma da quel che ho capito praticamente tutti vorrebbero questo ciondolino qua che è fatto anche con un materiale molto figo in plexiglass non è una cosa stupida che si rompe non si sbiadisce non si rompe lo lavo sempre faccio la doccia insieme resistente non avevo votato per dire sono contento raga che vi può piacere come cosa dai sono contento quindi aspettatevi molto probabilmente a natale ci sarà la possibilità di poterlo acquistare nessuno è stato buttato fuori raga siamo quasi alla fine della live mancano tre minuti anzi quasi due ormai finiamo questa partita e poi ci salutiamo nel frattempo sono arrivati altri due ore e trenta da Edoardo Muzzettu grazie mille Edoardo sei troppo gentile grazie 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 vediamo facciamo un attimo le missioni comunque raga dai volevo un attimo sapere se vi piaceva come idea e a quanto pare vi piace questa cosa mi rende molto molto felice e soprattutto orgoglioso sapere che comunque appreziate un mio prodotto che poi alla fine non è niente di che però è una cosa carina da avere si può appendere dappertutto allora facciamo qua facciamo le ultime missioni vediamo un po' come andrà a finire questa partita facciamo ancora qua ok siamo tutti qua voglio vedere come può anche solo ammazzare qualcuno l'impostore come fai andiamo su weapons comunque raga non vi preoccupate poi farò un sondaggio vi chiederò tutto quanto meglio così vediamo un attimo se veramente vorreste questa cosa oppure no abbiamo look work che dona un euro grazie mille look work spero di non sbagliare i nomi sarebbe un fail incredibile ok dai ce la facciamo a trovare l'impostore ce la stiamo facendo raga no vabbè non scrivo nulla tanto ehi blu ehi blu ciao nico penso anche io con questo cappellino da babbo natale non me la conta giusta ciao nico letteralmente ciao nico ora verrai sparato fuori ma ve lo faccio rivedere so che l'avete già visto però magari qualcuno di voi non lo conosceva ancora è fatto molto bene raga non sentirete mai comunque è un materiale molto resistente che non si rovina ce l'ho da due anni non si è rovinato mai quindi probabilmente quasi sicuro al 100% a natale potrete acquistarlo e rimarrà anche dopo natale per cui non vi preoccupate vi preoccupate sarà lì è lì poi vi metterò il link la pagina e tutto quanto se vi va ragazzi sapete che c'è farò anche eventualmente le tazze fatte così ditemi se questa vi piace farò le tazze così che anche questa mi piace veramente un sacco è fatta benissimo questa è lì va bene è vuota adesso non serve niente però allora devo votare no ho già votato ciao nico ciao mamma sc 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 capito no allora ragazzi intanto saluto ancora qualcuno ciao simone zoetti ciao davide donatelli poi 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 vediamo ciao antonio de bartolo spero di azzeccare tutti i nomi sarebbe un fail vediamo eh vediamo un po' manca soltanto una votazione vediamo un po' cosa succede siamo ufficialmente live da tre ore e un minuto robe incredibili ragazzi abbiamo nos gb devo averlo letto malissimo però che dona due ore e trenta grazie mille nos babbo natale è uscito ma com'è possibile non era neanche lui l'impostore ma è una roba incredibile è andata è andata raga è andata gli impostori hanno vinto non siamo riusciti a beccarli neanche per sbaglio allora raga io direi che posso tornare a schermo intero così ok dai allora abbiamo giocato un bel po' insieme per la prima volta siamo riusciti a giocare insieme in live letteralmente la prima volta non era mai successo ancora oddio sto esplodendo ho la gola morta spero comunque che questa live vi sia piaciuta raga spero di essere riuscito a intrattenervi a farvi passare un po' di tempo è stato veramente bello poter tornare in live dopo lo strike non potevo fare nulla per fortuna è stato tolto quindi siamo tornati più forti che mai oggi l'abbiamo dimostrato abbiamo fatto dei numeri mostruosi 16.000 spettatori in live momenti incredibili veramente raga grazie 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 detto questo abbiamo Maria Sala che dona un euro grazie mille Maria gentilissima sei gentilissima grazie mille detto questo raga direi di concludere qua tre ore di live è la prima volta sono veramente orgoglioso di tutto come vedete c'è ancora il dove è qua il countdown degli iscritti in tempo reale del secondo canale mi raccomando se ancora non lo avete fatto andatemi a seguire pure lì iscrivetevi raga perché usciranno dei video sia sul primo canale che sul secondo per cui mi raccomando raga andatevi a iscrivere che è gratuito lo sapete trovate il link in descrizione alla live ma non solo anche sul primo canale c'è proprio il canale in primo piano un altro euro da Maria Sala grazie mille Maria veramente un bacione grazie di cuore allora saluto le ultime dieci persone poi raga concludiamo dai facciamo così allora ciao Cristina Maracchioni ciao Alicia Oco Oco Lucu Oco Lucu alcuni nomi raga sono difficili per cui perdonatevi se sbaglio ciao Valentina R ciao Anna Buccheri ciao Francesco Mene no Meneghini spero di azzeccare i nomi ciao Romeo Bernardi altre cinque persone dai ciao Tommy 08 ciao Nutida Pappalardo ma voi mi si incricca la lingua vediamo eh ciao Eleonora che però nell'accanto di Gabriele Vertue ciao Nicola De Cesare ciao Nicole Lazzara ciao Ux Alessio e altre due dai altre due persone vediamo un po' ciao Danny 2007 Tottino è l'ultimo per oggi vediamo vediamo un po' chi sarà l'ultimo ciao Kim Tai Jung spero di aver detto bene comunque il tuo cognome va bene ragazzi dai ho salutato un bel po' di persone oggi molte più delle altre volte le altre volte mi fermavo a una trentina di persone salutate oggi molte di più dai spero vi faccia piacere spero vi abbia fatto piacere spero vi sia piaciuta la live in generale spero vi siate divertiti spero tante cose in realtà sono state tre ore fantastiche a parte il fail iniziale dove stavo parlando da solo però vabbè sono dettagli abbiamo altri due euro da Maria anzi quattro euro da Maria Sala grazie Maria ma non è necessario veramente grazie di cuore Maria un bacio poi abbiamo due euro da Blazer Yakotaku Smoothie spero di averlo detto bene ciao Fancy sei simpaticissimo mi saluti ciao Blazer comunque grazie di cuore per la tua donazione sei gentilissimo in realtà grazie a tutti ragazzi a tutti quanti per le donazioni per i vostri commenti incredibili per essere stati in mia compagnia per tutto questo tempo grazie a tutti di cuore ragazzi veramente siete unici siete fantastici siete fantastici veramente ve lo dico col cuore in mano perdonatemi se non riesco a salutare tutti se c'è qualcuno che non è stato salutato sicuramente mi perdoni vi prego perché siete veramente tanti raga non posso salutare tutti cercate di capirmi vorrei ma non ce la posso fare va bene ragazzi allora io vi do l'appuntamento probabilmente già a domenica con un nuovo video sul primo canale poi la prossima settimana si riparte con video non vi preoccupate ora non c'è più lo strike per cui è tutto a posto rimanete sintonizzati se non siete ancora iscritti al primo canale iscrivetevi attivate attivate la campanella così non vi perdete nessun nuovo video nessun aggiornamento andatevi a iscrivere anche al secondo canale che ho aperto da poco cerchiamo di supportarlo il più possibile siamo a 14.500 iscritti cerchiamo di arrivare a 20.000 raga mi raccomando tanto è gratuito e usciranno video anche là non vi preoccupate quindi niente ragazzi veramente grazie 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 a tutti un bacio gigante spero vi sia piaciuta questa live ne porteremo altre anche su Among Us spero vi sia piaciuta la cosa che abbiamo giocato insieme ragazzi non insultarmi perché non vi ho salutato non è la soluzione dovete capire che siete tanti siete tanti non dovete essere voi in questo momento no riuscireste a salutare 400 persone al minuto perché in questo momento la chat va a 400 messaggi al o al secondo al secondo bene forse capite bene forse capite bene che potrebbe essere un problema salutare tutte queste persone quindi per questo ragazzi non lo faccio con cattiveria vabbè spero capiate spero che sono umano anche io e non posso fare i miracoli va bene ragazzi tre ore e dieci di live possiamo concludere qua veramente grazie a tutti vi mando un bacio gigante e un abbraccio virtuale immenso spero vi siate divertiti ci vediamo presto con nuovi video vi do l'appuntamento a domenica ma tanto ci sentiamo sul canale su instagram dove vi aggiorno tenetevi sempre aggiornati su tutto raga non sparite mi raccomando vabbè saluto ancora ciao kawaii lin tvt che mi è uscita qua ho detto ti prego dai sono stato tu sai perché sono stato bravo dai va bene così dai va bene così ci vediamo presto ragazzi con nuovi video è una promessa non vi preoccupate va bene bom raga concludiamo perché altrimenti non concludo più la live perché forse per me andrei avanti ancora delle ore credetemi grazie per essere rimasti in mia compagnia per tutto questo tempo veramente grazie 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 un bacio ragazzi un bacio a tutti siete fantastici siete la mia seconda famiglia veramente ciao ragazzi mi raccomando ricordatevi tutto quello che ho detto e vi ricordo e vi ricordo che la live rimarrà sul canale quindi in caso potete andarla a guardare quando vi pare quando volete raga non vado a nessuna parte ciao ragazzi vi voglio bene veramente ci vediamo presto e ci sentiamo presto veramente grazie grazie ciao ragazzi concludo se no non lo faccio più ciao